non ho visto bene in quale casa era mi sembra in questa ha fatto l'oddio ha fatto dall'oddio si vado vado minchia non ho visuale da qua di uno una terra sono live non vedo gli altri tieni qua tieni ma sei una bestia di satana sei c'è una wild gun viola taglio di equipaggiamento in arrivo uno un team nemico ti sta bravando però c'è ancora qualcuno di quelli di lì ragazzi dovrebbe essere ancora due prima li pingavo tutti io se volete prendere un ghost c'ho un ppsh hai lo Swiss però si oh oh arancioni eh io non mi sono in volo mi sa mi guardo le mie armi o in volo o sono dietro guarda l'orda l'oddio sarà andato adesso guardando siamo tutti nella zona segura questo non l'ho capito erano in tre ha fatto il drop e l'ha preso solo uno e gli altri? come era da solo gli altri sono andato qua non ciò mi sono autofato sono mezzo morto io che sei morto? eh ero mezzo di macchio c'e' chi no? stanno ancora sparando da sopra? ma c'e' chi n'a quello sopra? no no si io ho sentito uno sniper io io sniper l'ho sentito a me mi sto sparando con l'arma e alla casa qua raga ora sopra la casa seo terroli minaccia 3 ce l'abbiamo uno vicino cazzo è qua e qua l'ho di dietro di noi e dalla casa lo vedo è rosso quello lì è prendere una film le armi e riuscite raccato unico dietro e gli altri non so dove sono l'altro dietro la casa una destra e l'altra a sinistra ok c'è un altro dentro l'immun occhio e l'altro tutta destra che ci stava scendo il giro da finire secondo me guarda dentro casa uno si sta sparando a me ma continuano a avere vita io tieni 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 ho cercato di capire quello a destra che fino ha fatto eccolo là in casa l'ho visto qua dentro la casa rossa si l'ho visto avanzo ma io anche vorrei avanzare ma è nato dietro la casa gialla visto ha fatto grigio dentro la casa è un paura di che cosa crisi non è una scuola da dietro no scudi me ne ha date però a parte che non volevo mettermi ok terra uno terra uno ilrato ancora nella casa lo vado a fare ho fermato nella casa e l'altro è nell'altra casa è pieno di sopra sopra si si è lì che corre bella bella vieni Kree dove sei? eh sono andato a lottare questi qua sopra eh ti portavo gli scudi va bene curazza da prendere prendo io 2 io 2 moon anzi prendo 3 io 2 1 moon ah Pietro grazie per il like a maneggia 2 buongiorno buongiorno si vado giù se no trovate 2 qua ah Pietro guarda qui vietali vietali no no io sono full 35 vietali di tutta la stacca parliamo su? oh c'è uno qua davanti dove? in casa di nuovo alzato pochino oh che cazzo oh che cazzo oh che cazzo oh che cazzo oh la zona sicura per voi oh che cazzo ho visto il ping o solo il rumore hai sentito? ho visto il ping o solo il rumore hai sentito? oh che cazzo 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 il rumore hai sentito? UAB alleato in volo dategli il rumore ma non è che ti spara da da viaggio vediamoci qui non lo so arrivano i colpi però non importa datemi i soldi che ho inflessibile compro una truavì na 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 bene ne 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 se ti vuoi prendere qualcosa ho visto del denaro devi comprare una truavì vabbè ce l'ho io l'UAB eh capito lo tenevo io non ho capito voleva darti i soldi per fartene prendere un'altra e ne avevamo due e lo tenevo lì ah e invece ho pensato si compra il bombardo non l'ho di qua non vorrei dire una strunzata mi è sembrato vedere gente atterrare sopra qua storage mando l'UAB di nuovo? se lo vuoi si se uno ha visto così dategli la caccia che sono lì la cresta dell'onda uno è un po' più indietro e gli altri sono un po' più avanti c'è anche un team qua che sta salendo metta marcata è molto avanti c'è uno davanti avanti a me sembrerebbe si qua vediamoci e lui l'ho visto è proprio il punto se si girano all'alasso di qua sei morti ma era un po' più stanno sparando stanno sparando non capisco se stanno sparando tra le loro è perchè sono due team non puoi sapere ok uno l'ho visto qua metta marcata andare verso proprio storage ci mirano con cecchino dalla casa si ho proprio paura che ci sia comunque qualcuno qua sotto la casa è craccato a terra quello in casa oh ma cecchino da destra da destra mi fa mi fa mi fa quello è one shot quell'altro è one shot anche peccato ve lo so però confermato bravo io provo ho visto una rosa qui c'è un bel track c'è ancora uno uno è terra questo è l'altro team che stava salendo sta sotto sguardo sopra 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 è risalito su eh sta saltando craccato craccato assist è morto sta saltando con la granata allora uno è sopra sotto fatto manca quello sopra donna solona l'alleato è finito nel ruolo la gente ancora anche dentro storage si dentro storage anche dentro storage si dentro storage tu avvi nemico attivo ieri sono ieri con la stata alle 11 ma che fa ti pensavo passassi se c'era l'ho vista alle 4 qui c'era qui tu accompagnati si è un'attività riposizionamento ma dove andiamo da voi posso scendere? si ma c'è gente in giro tra di noi in giro in giro tipo storage quindi c'è un team aggressivo da Stefano e Rufka la donna pusciavano i pazzi abbiamo vinto un game con 45 kg è morto quello lì? ok ok ci sono mi spiace io lì non sono riuscito per aiutare ti sei pusciato tanto aggressivo noi avevamo tutti intorno non ho pensato fossero fossero in due così nel metro ci stavano anche sparando mentre crossavamo vediamo il pallone andiamo tipo qua guarda che abbiamo un UAV c'è lo shopping un fly ho visto eh mi sembra di vedere un fly boh io ho visto l'uccellino ho visto non potrebbe essere l'uccellino l'uccellino che fa bling bling ah rojga c'è il like like un team nemico è sulle tue tracce fai attenzione vogliono le caffette di verde come sempre io farei già non lo so il movimento verso qua verso quelle colline lì via sta la gente sicuro però eh no rischiamo adesso però l'unica cosa è che quelle più belle è merda son partito cosa faccio? torno indietro no no andiamo eh son proprio la eh che sparano eh son proprio su quella collina la che sparano era uno spray perchè mi mirava proprio da lì che cazzo alta marcata non importa ho fatto anche un verde lì non c'ho il portatile l'ho visto uno possiamo provare a ruotarli e gli saliamo credi ci provo ma si è buttato giù eh si è buttato giù si si è buttato giù andiamo 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 qui prendiamo anche un uovi guarda non c'è quando non mi avrò farà caduta se gli esterni qua li abbiamo raccetti intorno eh ma lui si era buttato tipo qua si riesce a fare l'uovi a tirarlo eh c'era lui i soldi sta cercando di salire oh oh sniper qua con due eh ma ha craccato uno stato grigio sicuro ha craccato uno qua dietro anche ha craccato di nuovo tiriamoci intorno però anche eh ma si sta fightando anche con un altro team non ho capito stanno avanzando questi eh uovi nemico attivo ah mi vedo la mia uovi nemico attivo è stato poi doveva andarcene via da qua quindi è lì eh uno vediamoci qui è sempre qua dietro volevo provare a a ha fatto attacco bombardo bombardo via via attacco in corso senti eh minchia allora ho atterrato ok è morto un altro eh non so se mi ha dato prima nient'altro bersaglio rimosso ho atterrato di nuovo fuori dalla safe gli altri compagni non ho capito se lo vedo cazzo l'ho visto è tipo qua da confermare cazzo era lì che stava andando come un ratto ok è morto morto vuol dire che possiamo anche andare ad avanzare andiamo da io compro delle piastre però che sono secco c'ho la cassa ok eh non ho capito c'era una scelta scusate no è una colpa mia sei team l'assalto ne hai crei che ne ho nove io vieni ok eh non l'ho presa perché stavo ricercando l'auto oh ha raggiato la scotta due metà marcata è dentro la casa l'ho visto lancio un assorbente no in acqua rimosso attacco a grappolo avete visto dove? dalla conquista la conquista quando fanno i due flyer qua su qua di noi si è tirato dai 149 morto morto c'è qua 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 ce l'avete devo ricaricare nade attento bella bella ci stanno mesi pushando non erano quelli che erano sotto prima mi hanno colpito mi hanno colpito mi hanno colpito dobbiamo avercelo qua davanti cazzo l'ho sempre visto qua è attaccato il serpentino era lui la skin eh era bianca verde 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 chiaro faccio di equipaggiamento in arresto lo facciamo? no 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 stiamo ce ne... che era non era in safe poi dobbiamo ritornare indietro cosa dite? con quattro team undici persone direi che stiamo in safe è meglio deve venire lui cos'ha... non preoccuparti non preoccuparti ce la farai sto finendo le placche devo andare a comprare c'è lui la cassa c'è lui la cassa ogni volta che vio non esce non guardo esce ma che cazzo do l'odd eh? si si sta correndo in open dobbiamo arrivare alla zona sicura ho il contatto minchia questo qua sotto come mi sta frantumando le parole ma andiamocene via andiamocene via tranquilli ah vabbè stavate lì lo pushava ma proprio da solo eh ce lo togliamo dal cazzo a te ma vuoi ormai c'è andato lì prima la tua copertura eh no 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 ormai questo deve muoverlo in safe quello quello che hai fatto lì che me lo lutto un attimo no non c'è un cazzo lasciami i soldi credo che compro un uovi il problema è che se questo qua ci fa il lato ci gira di dietro ci spacca capito? e gira di un coglione basta non dargli se non stiamo troppo dunque è avanzare sempre qua lui non può avanzare troppo come sono tutti gollati 10 persone 1 2 3 4 5 6 7 8 si più o meno mancano forse 1 o 2 due le macchie due col ghost la potella serpentina eh definiti gli scudi ora eh figlio di puttana io non siete un po' open rega si 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 ma infatti adesso arrivo non cagatemi porto dio no vengo solo per prendermi i colpi il gas sta vicino no rega questo non c'ha recoil questo non c'ha recoil eh non ha recoil da lontano con l'ugm è impossibile è impossibile venimo venimo è impossibile ma non avevi soldi per il S ma non avevi soldi per il S l'ha collato ha preso il war V che sono sette persone V cioè non non aveva sette non è che provarci lui aveva un team da tre davanti il team da tre l'avrebbe fermato dovranno scoparcelo prima appunto ma no c'è un team da tre davanti a lui faglielo faglielo uccidere a loro che cazza ne frega non ti può far nessun giro no c'erano qua davanti è Greek passato non ci credo ha fatto lo type cazza in quel momento lio qui davanti eh non gli vedi ci sbaragano un graffo l'ho trovato stavano faietando qua davanti eh cagami cagami a me guida a me 3 persone, un team da 2 e un team da 1 Mi sento correre qua davanti a me Qua tipo Che brutto ingaggio Persa Persa io Con questo ingaggio qua Ah erano in 3 questi Si si in 3 Che cazzo di Come cazzo Ha demolito Ho calcolato le cose Bella Stefano Come stai Comunque non puoi avere No recoil da così lontano Con l'UGM Usi qualcosa per forza O Cronus Nel momento che Continuava a sparare in quel modo Io proprio l'avrei lasciato Proprio stare Tanto va sto team da 3 davanti Come stavo crossando io Poteva salire lui Il team da 3 Il team da 3 si faceva i cazzi suoi Stava facendo Ci ha manco cagato di stiscire in open da un'ora Il team da 3 non mi ha sparato un colpo Si non era nel senso che stava Non era in open che gli sparava lui Però nel senso Comunque Li avrebbe incontrati Noi dovevamo solo pensare Ma come faceva Joe non poteva Comunque io non volevo neanche stare dove eravamo noi Io volevo Ruotare tutto a sinistra Il movimento che ho fatto Questo qua anche se ti viene da dietro Ormai sei nelle case laggiù in fondo Poi non ti fa niente Nel senso da solo Pensiamo al positioning piuttosto che fare sta kill Guardi facevamo sta kill Poi ci trovavamo laggiù Che dovevamo fare il cross tutto open Non stava ammazzato Non volevo andare laggiù Eh lo so però Però intanto sei morto Poi magari Sono morto lì vicino Cioè non è che l'ho pushato Sono rimasto lì eh Sulla collina Però infatti la collina è tutta open Se venivi con noi Se semplicemente facevamo il stesso movimento Alla mentre magari vincevamo sto ingaggio qua Non scoparcelo prima Tutto bene dai Sono andato a letta alle 4 e mezza Alle 7 ero in piedi Arrivo da un after con un d'ore Di scopazzo scatellato Perché non l'hai dormito scusa Non so Gio Però a te puoi pensare come vuoi Ma se io ti dico Andiamo di là cazzo Andiamo di là Poi alla fine sei morto Alla fine Facciamo una cosa a tutti Ma non ero tranquillo Perché ce l'avevo lì questo Perché questo qua ci girava dietro Cri Ci poteva girare dietro Perché il team da 3 che ci viene Se l'aveva davanti Ma non ce lo vuole Mi ha fatto la prima partita Già siamo lì a far parole Se io voglio proprio togliermi dai coglioni Ma se io mi voglio togliere dai coglioni da lì Ed era da tanto che dicevo Rega andiamo di là È come quei discorsi Quando c'è uno del team Che rimane dietro E continua a sparare la gente lontana E il team non riesce ad avanzare Perché stiamo aspettando quello che spara È uguale Ti sei focussato lì su quello lì Io era da un po' Anche prima Quando aveva atterrato uno di noi Io volevo già andare di là Capito? Nel senso era da un po' Che volevo andare di là Se uno mi si focuss su una cosa E continua a stare lì Mi toglie tutti i timing Perché io voglio andare di là Tanto anche se ci veniva dietro Poi ce lo trovavamo dietro Tutto open Doveva crossare verso di noi Tutto open Abbiamo fatto l'UAV Erano tutti dalla parte lontana laggiù Anche se ti viene dietro Poi deve crossare open Verso il villaggio Cazzo te ne frega Fallo crossare open Mi frega che se mi arriva dietro Si scoppa due di noi Così come se nessuno si spara Non poteva Perché lui era qua Se io Che eravamo qua Voglio andare in sto villaggio qua Io voglio vedere lui Poi crossare qua tutto open Fallo crossare tutto open Lui crossava tutto qua E va bene E si arrivava dietro No Se noi eravamo già a village Come fa a venirti dietro? Gio Se noi eravamo già E poi scende Non è E lì è open Lì è open Lì è open Che cazzo te ne frega Gio E boh È sbagliato Come sbagliano gli altri Finito Che cazzo te ne frega Ne ho uno lì sotto Chiudete i nemici Senza che lo facciano loro Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Una terra Un altro Due a terra Sta arrivando un'auto Me ne sta arrivando un altro Sta arrivando un'auto Vediamoci qui Dimenticate quello che ho detto Terra 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 Sta arrivando un nemico Attenzione in alto Ha detto che siamo dei cheater Careful Oh proprio a me Terra Finiti Flacco qua Corazza Qui Abbiamo un drop Oggi solo due Roger Di equipaggiamento in arrivo Due a dare drop Daniele Ragazzi Di essere passato Buongiorno Il gas E' quasi addosso Per il like pure Che fanno un uo via Sì Sto a farne due Mi compro uno e lascio i soldi L'ho visto l'ho visto Uno è qua E l'altro un flyer Anarcata Vediamoci qui Un po' di soldi Che protona trovi Un po' di gente che sei qua Andiamo a destra Dove andiamo? Andrei a destra che sono un po' di gente Ma c'ho anche Flessibile Cazzo Dobbiamo vedere il pallone Porco diaz Sono un po' di giro Di staccato Vi vedo Poi abbiamo questo qua sotto Beccato Cazzo Ho aiutato uno in casa Cioè l'ho aiutato giù Uno in casa Staccato quello in casa Non è anche nel granaio Sono splittati Due sono lì Sta crossando L'ho visto Non va giù Stanno il granaio Stanno là Era un altro L'ho vicino alla macchina Diciamo Atterrato Ok Terra Oh Minchia Fai davvero a dire Autoflyer Autoflyer Non ho capito Cosa è successo? Nel granaio Nel granaio Massima attenzione Un team nemico ti sta dando la caccia Faccio un po' di aim lab Faccio un po' di aim lab Beh ragazzi Bene ringrazio per il like Oggi male Micchia Due male male E fare un altro UAV Veloce se volete farlo Ah cazzo è vero 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 Ricognizione urgente UAV in salvoro Sono 30 village Una di noi Flyer Un altro è comporso Autonomia UAV esaurita Rientro alla base Continuo a non vederlo Ecco lo vedo Lo vedo Qua qua Altissimo Due Sì due Ricevuto In attaccione Oh da me Usato Terra uno L'altro Terra L'ultimo arriva Terra Terra Di qua dietro Devo ricaricare tutto Devo ricaricare Terra Sopra Sopra Stai pushando Sono in due Sono in team Cattato uno Una destra One shot Dove ricaricare il fucilazzo grosso Non ho più colpi Volevo andermi a luttare Quello l'acqua è atterrato Io non li vedo Sono qua sotto Sono qua sotto Sono scesi Sì 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 sopra la casa Mi sembra uno Ora sopra la casa Straccato Straccato Quello l'ho giro La macchina Straccato Ma non è Quello l'ho giro La macchina quindi Mi sono restati tutti Mi sono restati giù Tre Ho preso una kill Oh pallone Straccato Dai cazzo Ravance È stato ancora Mi ti ho alterato Laggiù in fondo Versaglio in vista Mezza marcata È qua Quello che si è restato È qua raga Qui c'è un bersaglio Non mi ha messo il ping Sì l'ha pingato A villaggetto Sta costando dietro Sta costando dietro In movimento Ignorato È la taglia È la taglia È la taglia È quello che ho alterato Prima È la taglia È la taglia Stando via Sta andando dietro Vediamoci qui Stassi in arrivo Qui ho gioco in risoluzione 2k Mi sembra che Delle live Di varie sim Composite che ho giocato In falacadena Che ho pienito La macchina Almeno questa è la sensazione Dello stream Ora ogni tanto Beh la crisi è una grazia per il light È da Dallo stream in sé Ma secondo me Perché anche io ho guardato Ma non Depende anche un po' da Secondo me dal fatto Oh stanno fai tanto Staccato Mi lasciate i soldi Che c'è un uovo via Vieni qua Vieni qua Sto del denaro Sto non mi capo di accedere Cecco Genaro Affermativo Serve una ricognizione Sull'area Ma che cazzo Ha fatto il uovo via Un servono Troviamo anche a destra Serpentina Sono qua sul ponte Veicolo marcato Anzellare Ma l'ho visto Nemico qui Uno è saltato giù Diretti che lo protegge Battaglio in vista Autonomia UAV esaurita Rientro alla base C'è uno Staccato Ma dai Io Mi sembrava che ci fosse qualcuno Perché quando è entrato Questo qua è morto all'istante E io l'ho confermato Quindi Non c'è qualcuno Pallone Entra sul pallone Nemico marcato Staccato Staccato Buon hit Staccato Buon hit Staccato Per il like Qua dal ponte, dove stai Shweeby? Gli fucking Shweeby? C'è anche un verde lassù Se qua dal ponte sono spariti Eccolo qua uno Morto Eccolo qua uno Morto Sarà stato lì da un'ora Fallone? Sì dai Vediamo come si chiude la safe Andiamo verso il verde Ma se possiamo andare a vedere il verde Sì Vedete sì Alla nuova zona sicura Cassi in arrivo Ecco il bersaglio Va abbattuto Andiamo da verde Nooo Dai rega stavano facendo un bel game Cazzo Porca troia Allora abbiamo già 21 kill Porco due Cazzo stanno arrollando Arrollando Shweeby E' venuto Shweeby a portarci La portarci Iella Vado a vedere il team lassù Allora Anch'io stavo andando a vedere Stavo andando a vedere anch'io Che sei per casa Nooo Io speravo tipo Mica ti vai la Ti vai come tipo un fantasma lì dietro Compari di robo lì Dove è stato fin La nostra server è interrotta Tempo scaduto Voi ci siete però nel party Sì Sì Ti ricordi il tizio che ti ha ucciso che come si chiamava? Stai parlando con moi? Sì sì il primo game Sì si chiamava Te lo dico subito Te lo dico subito Allora Si chiamava Si chiamava A Romano Trovo E quelli che hanno vinto prima Sì quelli che Che sfiga comunque I tre che abbiamo beccato Era 077 072 180 Porco Non ce l'ho ancora il secondo game Il secondo game è questo Il primo infatti dicevo Questo è il secondo E dove è morto il tipo allora? Non c'è Non so come si chiamava Quello che ti chiedo Rattopoica Ma siccome è morto subito Cioè nel momento che era laggiù Poi è morto Cioè Come dicevo io C'era il terzetto davanti C'era quegli altri lì là Sarà morto poi nel cross Dananas No 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 Loloz Jefferson Jefferson sembra un nome da fuoco Cioè Jefferson No Jefferson Ma non sei in live? Sono in live E dici queste cose? Eh Momentanto mi scappa Cosa ho detto? Bella Moon Grazie per il like Il sarà win sicuro È un nome un po' da? Manca poco Hai detto il nome un po' da? Nooo Ho detto che tipo da uno forte ho detto Un nome da uno forte Ah forte Ah ho capito l'elefante ho capito Poi hai detto ma Sei fuori di testa Sono fuori di testa Sono fuori di testa Quando guido la mia tesla Ah Ma cos'è sta con un po' da una mia tesla? Ma cos'è sta con un po' da una mia testa? Vado muore di testa Vado muore di testa Quando win o la mia testa Anzuku Deve riprendere il camion Nooo Guarda che se dici così poi Shweevi si va a prendere il pezzettino Glielo manda Guarda che lì poi dopo Difficile 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 poi riuscirò Mi dissocio Mi dissocio Oggi Di solito è sempre A sinistra non ci riusciamo mai ad andare E oggi è tutto a sinistra Tutto a sinistra Pazzesco Bella sta skin comunque Moon Maledetto La fanno anche da uomo? Moon? Ma io non lo sento Moon Anch'io Anch'io Sai che ogni tanto lui fa così Lui fa così Non capisco Attenzione King run Maledetto Attenzione Vada di piazza punita dei bersagli! Bella Riccarduuu, super il like Riccarduuu Chi stai? Ah, ci sono gli scudi allora in questo gioco C'è meglio né, quanti ne vuoi già Sono sfigato Sono un ragazzo un po' sfigato E lo scudo non ho trovato Sono uno sfigato Quando viene C'era Vai Riccardo Uovi nemico attivo Uovi nemico attivo Uovi nemico attivo Che violenza di uovi Dio C'è iniziata, scopiamo nuovi giocattoli Nessuna, non frate E no Dentro anche Arrivo? Minchia, erano due o tre o tre Eh, siamo dall'altra parte giù Prego Quanti sono, quanti ne sono? Fine scansione, in uscita Uno è morto solo qua l'altro noo dai C'hai subito uno qua affronta eh C'è subito uno qua affronta eh C'è subito uno qua affronta eh Eh minchia mare Giusto un tetto Giusto un tetto Giusto un tetto Giusto un tetto E' arrivati prima di me o? Andrà a riorganizzarci mi sa Eh, sono già atterrato però Io mannaggia la puttana Ah, grazie Sopravvivi e tornerai in prima linea Perdi e sarai fuori dai giochi E' ora soldato Spacca tutto In prima linea Vai vai Ma non mi hanno visto né sentito eh Però Boh, cerca di capire se se ne vanno Ma piaga a me Stanno arrivando Merda Il tuo alleato ha perso Non ha vinto alla base Resti solo tu Puoi farcela Magari questo si chiede pure forte figlio di puttana Assoluto che ce le hanno Eh si Io con un cazzo di tre colpi di merda Proprio ieri dicevo vero che figlio Che cotteravano i soldati C'è un migliore ma c'è un migliore Ma c'è un migliore Poi che fai così non c'è Dopo che ho fatto la mamma manzina ieri No ma capito Ma se uno c'è la mamma che batte Che non è colpa mia Maia Maia Ci sono dei colpi Ah non perci E anche il cuore Voi Non troppo aggiornato Mua Una nuova A casa! Obiettivi trovati! Alla prossima destinazione! Manca poco c'è la soltà No, hanno rubato il pallone! Ehi! Ehi! Adesso vado a riuscire! Un momento di stare Mi sto da fare Mi sono fatti me ce l'ho visto uno Eh, ha tirato qualcosa, però non so cosa Vado dalla casa lì, questa qua, dove ti hanno sparato, diciamo, mi sembra Ci ho visto una casta bella lì L'unica cosa è che uno dovrebbe prendere il pallone, l'ultimo cover Così ci danno tutti i soldi Morerà il nostro eroe? Marco un fucile d'assalto Guarda che per 500 forse ce la facciano lo stesso Obiettivo raggiunto Tutte le casse di scorte Provate! Massima attenzione! Un team nemico ti sta dando la caccia Casse in arrivo! C'è una nuova zona sicura! Non riesco a prendere Cazzo, vedete dove? Sopra di me mi sembra di sentire correre Vabbè, arrivo Eh, l'ho comprato Aspettiamo un boom per lanciarlo Sto arrivando Abbiamo anche uovi E' stata scoperta una bomba nebula 5 E' stato scoperto Mi dice potenzialmente da campo non pronto Mi dice Perchè l'hai tirato e sei incastrata qualche cosa Lascio di equipaggiamento in arrivo Testata tattica in arrivo Hanno attivato una bomba nebula 5 Sto, se volete comprare UAV Qua ci sono i dolli Lascia Kree Mi vado al pallone e poi vediamo dove muorci Kree, tu che hai aiutato? Ero malvo Colpi di medio calibro qui Aspetta a lanciare, no? Come vuoi? Potremmo fare UAV Cioè prendere il pallone e andarcene qua Quanto si chiuderebbe? Non si qui Ma scusa mui Ma non hai le arme con carico massimo? Un vannebula 5 esplosa Un dananza Fatto amato Che cosa metti lì al posto di carico massimo? Ok, non mi ricordo dove potrò dire Uo facciamo UAV, andiamo la? Vai Mi hanno fatto un tagliamento dai eh Ah si e Dixit stanno... Era una pesante ma... Ah ci abbiamo due Era la mia stessa altruzione Che abbiamo Corazza da prendere Non si può mai pusharli? Io ce l'ho un pallone se volete Ah tiralo, tiralo Ecco mi hanno sniperato Aspetta Tutto a punto, resisti Che cazzo è? Che cazzo è? Ma sono straiato Sono straiato Come fatti da di giù? Ormai non mi sa più andare C'è un soldato Sono pusciato loro? Caccato Io non ho capito dove erano però eh Eh non ho capito neanche io Mi sembrava nel punto più alto di... Fu qua? Comunque dalla parte di là mi sembrava Cazzo nel momento che volevo pushare Mi ha atterratamente Ha arrestato Ma il pallone ce l'hanno rotto? Eh esplode dopo un po' Un po' esplode Perché è durato niente un po' Io vorrei sempre fare con il movimento lì però C'è questo pallone qua se vuoi Eh io l'ho appena ancora lì ma Oddio se non riesco a capire dove è sbagliato Ma da dove? Non capisco Non lo so Puro di push E' stato un po' più avanti Questo qua non c'è nessuno Sì c'è uno che è a terra E' a terra tu uno E' sotto sotto eh Pieno terra tipo Si fai da con giro e mi senti qua Da solo Moon Cazzarola Fatto fatto Da solo Arrivo 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 No 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 Niente no no Cazzo Mi stava pushando a te sul tetto quando mi avessi arrivare Oh un altro qua Questo? Sam mina Di secondo quantità Non ho toccato Io non avevo uno lì sulla parte più alta Della ma si è impossibile ragazzi a 300 metri davanti a me c'è laggiù in fondo come fa a vedermi venite verso di me che ho paura che se mi alzo mi tira una slime per la domanda lo stesso perché io ero ero lì ero ero lì munica ti conviene correre chi altro non è davanti a voi dritto davanti a voi uno era sulla torre verso la torre e l'ho ucciso prima sono due cazzo sono due mi fate provare a snappare me non mi metto gli scudi mi guardate solo dietro era uno di quei copponi che è schifo comunque ne aveva terrato già uno io di questi qua tutti li attaccati bella marco grazie per il like dobbiamo pushare allora col pallone là sopra su quel cazzo di tetto di merda allora sono anche nervoso che che di merda sì sì eh ma siamo speriamo lì dalla parte con la mappa lì che è un casino no 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 Aia Ah, a bibione Ho visto che c'è scritto che Partite per maltempo iniziano alle nove e mezza Quel tetto è pericoloso Sì, però, beh, lì Mi avevo già atterrato uno là, mica Io non me lo sarei mai immaginato Due sniper lì Poi non sono riuscito a sniperarli Perché ovviamente con due sniper che ti mettono sotto pressione Cazzo è anche difficile prenderli L'ho missato di poco, mi ha atterrato Però porco Dio Cioè, ma anche loro Ti dico adesso, poi l'altra ha pushato, ci ha pushato Ci ha venuto da dietro, ci ha distrutto Perché non avevamo avuto il tempo di fare niente Però porco Dio, dai, come fai a stare due In quel tettuccio là, fermo Cioè, poi hanno vinto, hanno ragione loro Ci hanno distrutto, ci hanno ragione loro Però bene Cioè, poi è un momento che ti devi muovere Nel momento che devi fare qualcosa Boh, cioè, non lo so Ti pede che il team che c'è un bombardo Ti butta giù c'è un bombardo Cioè, sei morto Non lo so Vabbè Oh my god Comunque hanno già trovato il modo Di fare lo slide cancel Su Modern Warfare 2 Bene Pazzesco In teoria dovrebbero fixarlo Perchè scherz Non so, vogliamo cambiare Mi sta mandando male di là Di quella parte di Riproviamo Ci siamo ragazzi Vi sento spenti Non vi sento Non parlate L'unico game che stavamo distruggendo La lobby è crashato il server La devastavamo Cioè, eravamo caldi Come resti Sì, eravamo già Cosa eravamo? 10 o 21 8 Io Forse ne avevo 4 Però stavo Di genere Stavo facendo Scutta Non so, la Non so, la Non so, e Stavo La priorità è uccidere tutti i nemici. All'attacco! Fire? Nemico? No, no, me l'ha proprio collato! Qua, qua, da me, da me! C'è l'ho io, c'è l'ho io qui! Eh, mi sparano dalla casa da Temu! Vado, vado, vado! Vado, vado, vado! Eh, mi ha distrutto, eh! Va dentro, qua dentro! È ucciso quello di là? Sono in due, eh! Italiano questo, l'ha detto, eh! Il tuo l'hai fatto, Mun, non ho capito! L'ho ucciso io, l'ho ucciso io! No, qua, quello che è qua, che mi sparava da qua! Io, io, l'ho ucciso io! Non manca uno! Qua, qua, qua! Un altro team, un altro team! Mi sparano dal fienile! Nella casa, questo qua, quanto me è... è traccato! C'è uno scudi, non ho un cazzo, ragazzi! Munizioni, non c'ho niente! Non voglio che chiara, eh! Faccio di equipaggiamento per voi! Dove? Ti lasci il soldo di necomprisi gli scudi per te, eh! Cazzo in movimento! Cazzo ti lascio questo, se vuoi! Eh, no, non c'ho chiuso del timing, se no, no, no! Mi stanno pushando! Ma perché sei da giù, cazzo? Oh, al combardo! Ero già giù! Mi stavo pushando! Mi chiedi, cazzo, stavi! Mi chiedi, cazzo, stavi! No, c'ho uno qua davanti a me, a cazzo! Madonna, che culo! Ah, che culo! M'ha detto! Traia, traia! Vediamoci qui! Guardate che mi sparavano... Non ho ben capito... Giuseppe c'è il timidero, eh! Non ho di nuovo scudi! Mi riesce a dare due scudi? Lo rivedrai presto! Ce n'è uno! Posso andare a drop? Questo bersaglio è ostile! Di tutti ci sono due team, raga! One hit, quello laggiù! Eh, uno sta prendendo l'Odi qua! Questo bersaglio è ostile! Dai! Uno qui! Era uno! È stato l'altro! Non ho niente... Guarda, vi sta pushando uno! Indietro, indietro, indietro! Non ci credo! È one hit, ragazzi, è one hit, è one hit, è one hit! Eh, se non è ingaggiato ce l'avevo l'angolo qua! E mi ha pushato, cosa non è ingaggiato? Se ti metti dietro a casa... Sì, ma se ti metti dietro a casa devo l'angolo... Così non ce l'avevo... Attaccato! Attacco aereo su questo punto! Chiesta ricecuta! Attacco a grappolo attivo! Dietro a casa, dietro a... Ma quel colpo lì cazzo! È qua, riesce a confermarmelo! È open, open! Sta andando, sta andando! Ma no! Come sta andando? Non lo dico! Morta, dietro! Morti! Ha lasciato l'aereo in volo, eh! Ah, è restato! Lui è restato! È tipo qua, eh! Vediamoci qui! Preso la corda! È andato via! Terra! Bello, cazzo! Clip, rega! Io sono realicato! Non lo direi te lo! Non lo direi te lo! Non dico niente perché ho perso anche la voglia di parlare! Oh! Un'altra mente a me, Kree? Nella casa o cosa? Qua di... no, dietro alla macchina è passata! Lancia un'astordente! Così dentro! L'ho visto! Dei mie armi, lega! Posso prenderle? Non mi ricordo dove sei morto! Ah, sì, la sua! Morto qua! Vediamoci qui! Dove cazzo è andato questo? Scusa! Troppo nel fiume, forse! Noi non l'hai mai visto! Sì, sì, no, l'ho visto! Non ho munizioni però, eh! Zero di zero, eh! No! Eh... Ti lancio 30, sono a 70! Giotto, se vuoi prendere fantasma qua c'è una cassa di... Eh, non ce l'ho il fantasma nelle armi! Giotto, ti lascio un po' di placche! Faccio UAV! Ma dove venisci in Limu? No, vengo io! UAV alleato in volo! Dategli la caccia! Vediamoci qui! Affermativo! Tieni, Giotto! Pazza è nota! Arriva il gas! Marco, la nuova zona sicura! È una village! Sì, sta arrivando un team intero, eh! In volo però, un team intero! Sì, è sceso il team! Non so se... Se sono compagni, era già arrivato l'altro! Cos'altro! Però è un team da tre! Tre persone ci sono! No, dai! Muoviti! Uno l'ha terrato! Volevo fare il bombi! Sono qua davanti a me, eh! Ci sono! Ci sono! Gioco apri, eh! Sì, sì! Non so dove sono! Prova bene! Il team arancione! Eh, ha capito! Ah, ha appena arrestato! Ha appena arrestato! Ha appena arrestato qua! Volevo davanti! No, no! Minchia, raga! Gliel'ho sticcata! Gliel'ho sticcata! Una terra! Uno è craccato o una terra? Un amico colpito! Ma ce ne erano due! Ce ne erano! Sì, sì! Non ho craccato una! Non ho capito un cazzo! Solamente! Dimmelo che erano in due! L'ho craccato una terra su un due, no? Vabbè! Prima due ore dito! L'ho sticcata! L'ho sticcata! Questo è il gulag! Sopravvivi e rievrai la tua libertà! Eh, sono lì! Non posso dare molto nel reale! Adesso erano tutti fermi davanti a me! Prima ho missato! Poi l'ho atterrato! Ho pensato! C'ho ancora il tempo di sparare! Bastava fare un metro e nascondermi un secondo! Invece ho dovuto strafare! E perdiamo il fight per quello! D'altro noi eravamo troppo indietro! Che tu hai sparato uno! Ma io volevo atterrarne uno! E fare il bombardo! Solo che ho atterrato uno! Poi ho voluto esagerare! Ho voluto sparare anche all'altro! Ma non ho il timing per fare quello! Un'arma ZRG fa schifo! Cioè è lenta! Non posso sparare a uno! Sparare all'altro! Avessi avuto un gorenco! Probabilmente avrei ucciso tutti e due! Ma così non posso! Io volevo fare solo il bombardo! Poi mi sono fatto ingolosire! Sopravvivi e tornerai in prima linea! Perdi e sarai fuori dai giochi! Risolvi con le maniere forti o cattura l'obiettivo! Mi... Per essere diventato follower! Buongiorno e benvenuto! Guarda te quello lì! Sì, lo devi, lo devi! Non so, prendiamo lo stesso subito, vediamo a sciogli uscire. Questo lo andiamo qua. Tutte le casse di scorte trovate, perfetto! Ah no, avremmo serciato un altro. Scusi, non hai tirato vovì. Scusi. Scusi. Ha ripreso. Un'arma che si guarda lontano. È da solo qui? No, sono altri due. Eh, lo stavo distruggendo. Eh, li ho visti. Un'arma che si guarda lontano. Cominciano ad aver colpi. Cominciano ad aver colpi. Un'altra terra. Ho tirato un pallone. Un'altra terra. Un po' di fuori. Il gas si avvicina, nuova zona sicura per voi. Cazzo il giornatello. Cazzo il cecchione ti copre mezzo a visuale. Tu avvi nemico attivo! Vai! C'è un soldato nel lino! E poi non li vedo quando sono per terra così, capito? E' un suo figlio, mazzato! E' un suo figlio, mazzato! Madonna che giocatore, ragazzi! Ma che cazzo ve lo vinciamo a fare? Aia! Aia! Cazzo per il Laika, Alessandro! Sei entrato nel momento giusto! Madonna, comunque quando erano dietro al camion quante volte le abbiamo in tattico. Poi mi sono stufato, sono andato avanti, probabilmente gli vedeva ancora la testa, però... Poi ha preso il pallone, è salito su, mica non hanno neanche un... A me mi ha potuto quello col camion! Non so perché mi è venuto scritto esperienza, eh! Io ero convinto di averlo atterrato, no? Salva la tua ragazza per il like! E invece non... Ai cavalli! Ai cavalli! Ragazzi, che pensa? Non sarei male? Non mi hai fatto cazzo! Se riuscissi ad andare a uno shop, non farbbe male! Tutte due, tutti due ragazzi! Un flyer questo! No! Quanto cazzo l'ho messato! No, scusami, ma questa arma qua non dovrebbe avere dieci colpi? Aspetta! Hanno vinto la passata! Un bersaglio alla guerra! Un po'? Uno da un'altra parte, bene! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Un'altra parte! Bella Fabio! Grazie per il like! Grande! Push! 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 Yes! Piazzarola! 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 Di ridida! Cafezzarola! Stiamo avendo sfiga, basta! Non andiamo più lì, eh? dai, devo scendere un secondo mi chiamano a me di quelli del camion mi girano le balle meno male che avevo s'arma d'oro però bene io mi atterro uno abbiamo confermato subito poi mi atterro l'altro poi continuiamo a stare dietro al camion forse se mi fossi buttato subito giù avevo i piedi sotto il camion e gli mettevo un po' più di pressione io avevo un'arma guerra senza mirino e ho fatto quello che ho fatto poi ho perso il timing ho fatto due belle kill poi quando sono a terra lì mi isso ma ogni volta mi faccio prendere dal panico e lì mi isso la regolazione potrà anche usate questo tempo per allenarmi poi si farà sul serio è è è è è è Grazie. Com'è Alessandro? Fa' questa win, va. Comunque è veramente il primo game e potremmo vincere. Però poi il secondo game, quello la... Era un OP. Se non trashava, secondo me erano troppo... Troppo on fire in quel momento. Troppo on fire! Si ha smorzato gli animi. Si ha smorzato. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Madonna, non uso Disney con sta ragazza. Ma chi se ne frega, cheat, va bene. Chi è? Nadia. Ma è italiana? No. E cheat? Ma si, usa Promus e altre cose. È andata a fare questo evento di Modern Warfare 2 e invece che sparare dagli avversari, sparava i suoi compagni di squadra. Ah, mica. Eh, non sa giocare, ma va bene, cioè. Ah, proprio così? Cioè, senza Promus la riesce? Sì, non riesce. Infatti la metà della live lì l'hanno... L'hanno fatto andare via perché si lamentava che voleva il Promus, voleva... Ah, anche proprio voleva... Sì, sì, queste. Ha detto, eh, mi hanno fatto usare il mio PC e... Uccidete tutti! Via! No, non è sta Promus. Sì, va a vedere quando gioca a casa sua, mica è Frago. Ma così tanto sta Cronus? Ma perché c'è qualcosa altro oltre il Cronus. Ah, ecco. Vabbè, allora. Questa è seguita anche. Eh, da oggi non più. Eh, la stanno smerdando, quindi mi sa che... Ha finito. Eh, no... Sì, però anche lei, no? Se sai che giochi solo con quella roba lì, che cazzo vai agli eventi che ti fanno giocare con un altro PC? Eh, perché ho provato il gioco nuovo, fammi vedere che è famosa, perché è famosa. Dai, non è che... Ma è l'ultima arrivata, su. Vado a far se uno staccate qua? 40 secondi, se vuoi. Vado a metterlo, non sono un Kaiser. Prego, su. Dai, che mi cade in testa, dai. Un po' squintati, eh, rega. Ah, però se saremo su così ci cade dall'altro lato del fiume. Due. Contro all'acqua, poi. Tra una eva. Gas in movimento. Ricerca in corso, miglioriamo l'attrezzatura. Un po' via. Fine ricerca, drone in rientro. Non c'è anche giù dalla, dalla collina giù, va? Non so se potrebbero essere loro. Vediamoci qui. Qui si sono qua. Non so se potrebbero essere loro. Vediamoci qui. È da tutto da fare, quella zona là. Dimenticate quello che ho dato. Non ti va sparare, boh. Lasci i soldi. Vieni. Oh, oddio. Va a fare sta zona qua sotto. Mi serve una ricognizione sull'area. UAV in servolo. Meta margata. Non è proprio dal pallone, forse lo vado a prendere. Potrebbero prendere il pallone. La macchina è troppo. Ah, in queste kill mi piacciono. Nooo. Maledetto Christian. No, non ho fatto niente. Cosa ho fatto? L'ho confermato. Perché è sempre io, maledetto? Eh, ho letto Christian. Ho traccato volo là. Ah, ne ho visti parecchi puntini rossi, eh. Almeno 3-4 ne ho visti io. Andiamo ad avvicinarci. Ma sti sotto o sopra? Sopra mi sembravano. Guarda, guarda, guarda. C'è l'Alex! Buongiorno. Come stai, cazzo? Va bene. Questi ho mangiato le armi. Come stai, Alex? Sparano da davanti. Hanno attivato una bomba Nebula 5. Stavano andati davanti, ti ho d'occhio. E da dove? Da dove c'è la contraerea, più o meno. Non li vedo io dalla contraerea. Eh, mi hanno sparato, però. Detonazione bomba Nebula 5 imminente! Allontanarsi! Hanno restato sotto. A sinistra sento sparare io. Non so, io ero sul ponte e mi stavano sparando dalla fronte. BOMBA NEBULA 5 splosa in lontananza! Sì, di qua. Movimento! Qua viene di gente. Movimento! Annullare! Ah, è morto uno! Un po' di tempo fa non c'è più. Lancio una spottina. Lancio una granata! bandonanza! Ma non ti sparano con un elicottero? Ma qua sotto si sparava qualcuno con l'arma! bene bene abbiamo iniziato il primo game bene bene abbastanza se quando mi stavamo trittando la lobby porco dio ci ha crashato tutto adesso mi sembra che abbiamo fatto solo un game ma perché non c'è gente andiamo a vedere davanti lì sotto c'è sto fantasma che ha sparato a raga ma ha sparato davvero hai visto che lo slide cancels sono due di riprendere la mia zona sicura tutti si sono volatizzati pure quelli che sparavano qua come la sotto c'è la gente comunque magari scelta sparato poi sceso giù non può essere è stato stato che ero sul ponte e mi sparavo lancio una granata effetto bomba nebula 5 è dissolto l'area è sicura come mai c'è una chiappa ragazzi potrebbe essere c'è uno anche di lato rega una pezza devo curare rocco dovrebbe essere fatto in avanti l'ho scordito eh fate una cagata comunque l'ho scordito lo vedo lì dietro copri tu al giro da l'estero si è attaccato ci sono vai vai li copro io non so quello se sei autoressato però quello che ho trattato io si 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 ok UGM è forte eh però minchia è lento nel caricare troppo lento io trovo che mi rincula troppo sulla distanza è sulla distanza è quello che ti dico che quello là non può avere non può non avere l'inculo perché porco diaz sulla distanza minchia la tenda magari ha appoggiato a qualcosa no no Kree no te lo sto dicendo perché ho visto la killcam per questo sto whinando era infermo in piedi restato e ha fatto il drop pushiamo vai quando Christian chiede pushiamo non devi mai guardare sei già lanciato no Kree che cosa Fuori, io non ho capito altra cosa! Sfigato è vera! E' un U a via! Vabbè, ok, gg! Questi? Arriva la gente! Uno one shot! E' morto? C'è un altro sopra di me, eh? Non capisco che si sparava! Cazzo, perché sussisco? Questi secondo me erano due flyer che si sono sparati, dai! No, è amaro! Non è possibile! Questo è proprio qualcosa da vero! Adesso arriveranno tutti, che poi hanno sentito che abbiamo fatto un macello! Abbiamo subito! Un U a via volevo fare io! Ok! Se avete voi i soldi! Oh, allora pushiamo! Tiro! Tiro! Lo sotto, lo sotto, la tua via! L'altro l'oddia! Attaccio il tiratore! Allora pushiamo! Pushiamo! Sono due team, eh? Uno stanno passando a sinistra, eh? Dal fienile! Ma saliamo? Volete pushare, veramente? Saliamo, saliamo, saliamo! Ma è un botto di gente qua, eh? Però questi sono tutti bordo safe! Ma come cazzo salgo qua? C'è uno che si sta avvicinando a noi? Sì qua, qua! Ma questo l'ho anche hittato! Io spero che... Minchia l'ho... Da terra l'ho hittato! Bene, spero che non manca l'altro resto! C'è un altro che lo stanno andando a tirare su! Ma guarda che culo l'ha restato! C'è lo stare... No no! Morto, morto! C'è ancora uno qua, eh? Bianco! Non lo vedo! Lo saliamo su, va che magari... Sto sparando da troppo tempo! Volete colpi... Salto, volete? Colpi di medio calibro qui! Eh, prova ad allargami un po' su, perché ho paura che... La vado a prendere io, prendo la corda e salgo su! Ora che c'abbiamo qualcuno qua, magari alto... L'obiettivo è stato marcato! Bisogna eliminarlo! Vediamoci qui! Sì, li vedo laggiù, eh! Però sali! Boon, guarda su, va! Non guarda... Eh, sto guardando giotto! Sto guardando giotto! Tranquilli, tranquilli, andate su! Massima attenzione! Non puoi sparare qua davanti a me sulla destra, tio! Un minimo giustatato la caccia! Il gas vi raggiunge! Qua sopra? dobbiamo arrivare al secondo giorgio poi possiamo dire 30 metri rito sto in labs trena di molti migliori paio di cui mi sa che stanno andando al pallone raga a sinistra al pallone credo stanno vicino a dire apposto che hanno fatto un cross alla madonna hanno fatto questo ma poco sono dove non è con l'italiano quello forse poche malmulti si è fatto con un senso sì così un po random così a sparare basta posso non lo shop cosa dovete fare è arrestato io sarei di qua guarda starei di qua perché tanto si chiude dalla nostra parte prenderemo troppo tempo a andare di là siamo arancioni sotto 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 qua c'è uno sniper non so se sono loro poi se diventi rosso sono loro eccolo cazzo si è incastrato sulla porta ma lì non è in tape eh lo so infatti lancio una granata oh mi sta sniperando erano loro erano ok guardato il ponte ci sono fatti la nostra taglia staranno arrivando questi eh lo so no non non versaglio in vista scusate ci ho provato sposto dall'altro lato del ponte di qua e magari se vediamo che qualcuno ci puscia da sotto lo sentiamo secondo me Stefano è buono se fai tipo un share che distruggi che è un po' più tattico che ti giochi delle situazioni di uno contro uno due contro due team play cose se no è un po' scettissimo hanno fatto il verde è là è il tipo fermo in piedi la staccato prendiamo già position sotto? si ma non subito subito vi lascio un po' di soldi magari poi facciamo uovili dallo shop ho paura che poi ci vengono da sopra magari denaro affermativo gente qui roga vediamoci qui eh noi minchia adesso siamo scesi puttana noi anche ci vengono proprio a destra a destra siamo non volevo farmi prendere proprio da sopra io no io ho detto sì sì che avevo porre che venissero di dove siamo noi adesso quindi adesso io ho paura anche da dietro ci sparino da dietro mi sto spavendo da fronte ma non riesco a ah l'ho visto uno tra le tende qua due è poco crossa sono tutte tre vivi eh scendiamo giù da noi vai non andiamo oltre la giù tanto non ce la facciamo provo a coprire un po' io con lo sniper intanto loro sono andati oltre oltre non ho più munizia d'assalta siete avvicinate qui a me ho casso di munico guarda qui c'era lui l'uomo vi? si nemico in arrivo sono morto lancia uno stordetto ok terra ce ne un altro morte di qua non si non non si non di teleplatti raga No, non ne faccio una, ragazzi Non ne sto facendo una, però Mi sto rompendo il cazzo Lo lascio qua, lo lascio qua Aspetta, se non mi hanno fatto le mone Poi secondo me dovremmo andare qua Questa è in volo, un player Vedete ci sono questi qua che sono il team Andiamo là su dove dicevo io Potremmo già prendere position Ah, adesso ci sparano quelli là, cazzo No, ce n'è uno lassù No, ce n'è uno lassù Cazzo Oddio, si mi ha dilaniato quello lassù Unshot, ho preso io il testo Non ci riusciamo a salire No, ne è salito un altro No, ne è salito un altro Ma l'hai atterrato quello lì? Non ho capito No, non ho capito Sono un full team, raga Sono in tre Lancio una granata Cazzo, ce n'è uno lì Che sfida di merda Si è buttato sotto? No, ci sono tu io Posso correre? Forse stanno salendo le scale, cazzo Non sotto Senti, è di sotto Ah, sei tu, maledetto No, per un secondo li hai pingati Sì, ma sono a pieno terra Bravo 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 Stacco su io, eh Bene in position Io volevo provare a fare sale Arrivo Grazie Stacco sul tetto che ti do Cover C'è gente, eh? No, siete porcozio che paura Scusate Sulla torre forse Oh, mi arriva una sniperata Sulla torre uno sì, eh Sulla torretta qua c'è sicuro uno Poi mi stanno sparando uno solo due Ecco qua, 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 qua Vediamoci qui Ho golping, eh? Vediamoci qui Non importa Eh, non ho tirato uno sulla torre Ma ho tirato ancora laggiù in fondo Bravo, vaffanculo, va Eh, si è buttato sul lato Ma si è buttato di sotto Non lo vedo, credo Eh, l'Alex, bella giocata, sì, cazzo Nice Nice Metta marcata Questi PPSH, bene, tipo anche quando C'entra tutti così dentro E focussano a uno Minchia, li tritti, bene L'ho tritato uno E l'altro lo che lo... Eh, ma poi ti hanno focussato tutti a te Io ero di lato Non nessuno mi ha tirato un corte Già ce ne fosse stato uno che mi avesse intato Il secondo Mario non l'avrei ucciso Marco, la nuova zona sicura Eh, cosa facciamo? Eh, una merda Però potremmo andare comunque lì Sulla sinistra in certo punto Vediamoci qui Non è che non so se abbiamo qualcuno sotto Che ci sta aspettando, diciamo Lancio due spottina se vuoi Lancio una granata Ha restato proprio lì sotto, un po' più avanti Tipo qua, eh Andiamo, andiamo, andiamo Proviamo Io non tengo nessuno lì dal... dal gas Tutti nella zona sicura Qua c'è un... Oh no Mortucono Amma da fa... Occhio a Bonsi lì Ha tirato qualcosa, sono loro Forse han tirato qualcosa Ci sono, ci sono La Bonsi ha detto lui La Bonsi, la Bonsi Arrivano, arrivano La Bonsi, la Bonsi La Bonsi, la Bonsi La granata per terra qui Ah, se non ero a casa ho visto uno sniper C'era? Sì Oh, uno è sul tetto, uno è sul tetto È safe, non capisco Eh, aspetta Guarda qui Andrà tutto bene Sono sottotiro Mi sto continuando a craccare, non so se faccio bene Io non sto capendo, lo sai Sono sul tetto In questa cosa qua Andrà alla finestra, uno Sì, sì, ma fatemi sparare a me, raga Fatemi sparare a me, cazzo Non temere, ci sono io Io sto continuando a craccare, così noi perdiamo scudi Invece io gli sto proprio dilaniando da lontano La cosa che fronte dobbiamo, dovete guardare voi Sono sottotiro Dalla casa a quello lì d'alfano E' fuori di tirare giù, mica, tre scudi alla volta, porco, Dio E' fuori di tirare giù, mica, tre scudi alla volta, porco, Dio E' una bella merda, rega Votiamo? Sì, però dove? Forse dobbiamo far muovere prima questi qua forse, però, quelli a destra, perché sennò ci tritano prima loro Bello, questo ci serviva Oh, si sparano One shot Falso, uno Uno sta correndo in open, la detende Devo provare ad andare adesso, forse Raga, devo tirare la cassa di muni, non ho più muni Orco, Dio, si sono appena grossato Ok, uno è morto Ok, l'hanno ucciso questo qua, davanti a me Manca meno, il suo corpo Potremmo, se c'è ancora gente dietro E' anche affronto, ho sentito fightare parecchio Io lancio tutte le cose, non c'è niente Non riesco a pingare, tipo qua Vediamoci qui Andiamo a fightare, sono in safe loro, noi no, eh Stato? No, uno un po' più sulla destra Uno ancora più sulla destra Ci sono dei legni, tipo Sì, gli spalti dei legni Lo visti, lo visti, però Troppo dall'altra parte Merda, sono sottotiro Eh, sono più loro, ci sono Ha una terra, lì dei legni E basta, dobbiamo andare No Sono tutti splishati, maledetto Sì, sì, sì Erano loro, erano quelli della casa che continuava a tirar giù Che continuava a crackare Sì, sì, sì Erano loro, alla fine avevano la zona migliore Perché da là andavano su, sono andati su quelle rocce Noi che cazzo facevamo Purtroppo è rotation Giusta Più di così Dovevo atterrarvele magari uno Io di sniper Solo che Mi ha subito atterrato quello di legno E non ho fatto niente Io già lì Me la fossi giocata un pochettino Meglio nel senso che Ne avessi tirato giù uno Probabilmente Potevano fare qualcosa Pushare o Cercare di essere in superiorità Però così Nel momento che io sono sniper Vengo buttato giù Non Vi Vi metto nella merda Diciamo 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 Questa era da vincere Cazzo che era bella Eh sì era bella Perché abbiamo fatto bei push Comunque l'abbiamo anche recuperata Un paio di volte Quasi così Però porco diaz Quando c'hai sta safe Messa così È un casino È un casino Questi li abbiamo atterrati Chissà quante volte Magari non avevano Neanche più tanti scudi Io li ho atterrati Veramente un botto di volte Sti qua Chissà quattro nemico Chissà quattro nemico Chissà quattro nemico Aia dox Va bene Chissà quattro nemico 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 Sto laggando un po' il server Uccidete i nemici senza che lo passano loro C'è un po' tanto C'è un soldato nemico Soldato nemico? Questa è una di quei server che crasha Sto laggando troppo Lascia solo se facciamo più di 10 kill Ugo cosa? Non parla niente Ce ne avevo uno dietro raga Ho fatto uno Lancio pa' la torre, merda Un tuo compagno è nel gula Lancio un astordente Colpo a segno Oh Sai che non mi entra nemmeno Un altro resposto e non ce l'avete Ho trovato un medicinale Il tuo compagno si è meritato un rientro Non ha dato tempo però Ho visto due Ho visto due Un po' di cenato tantissimo Qua c'è ancora con ingresso dal golet Mi sa che c'è rimasto più male lui Che gli dice che non l'hai sentito molto Voglio di equipaggiamento per voi Ah, spero, fai prendere sta roba Sennò non ha... Forse sì, non lo so Oh, Dioz Quanti ci sono? Non l'avete mica visti Due, due, due Oh Dio non sente nulla, porco zio Che cosa? Buon Alex dice che... Oh C'è il pallone? Dai, ma che vai a essere uancho? Non fa un cazzo questo sniper all'interno Si prende il muo nella schiena C'è va Alex che ci sei rimasto più male te Il fatto che si è entrato e non hai sentito nulla Dove, dove, dove Sempre la torre Eh, è una torre, mi stanno distruggendo Eh, vabbè Io non li vedo, non li vedo Non li vedo, Gio, non ho l'angolo Vieni, vieni, vieni Ma gli avete sparato prima L'avete visto che è lì, no? Sì, ma non ho l'angolo, non lo vedo, Gio Se non lo vedo, porco zio Non so, ti va, che non so Perché mi spara? Mi hanno colpita Gio, lascia i soldi Allora, fai un altro giro di scuola E' atterrato, in testa di minchia Sistema trofi online In movimento Io non li vedo Andiamo a questo blu Un è mezzo open, l'altro è Lo mezzo open è fermo lì Che cazzo sta facendo Questo è crashato Cantera Ah, sarà dentro questa terra Se vogliamo Sì, sì, vai, vai Uno dovrebbe essere lì fermo Allora, a sto punto Mi sembrava così L'ho aperto qualcuno qua Arrivo, arrivo L'ho aperto qualcuno Eh, rai da suolo Eh, rai da suolo Eh, rinchi, sono arrivato Mi si sono aperte le porte Ma dai Ma che cazzo Non ci sto capendo Cazzo, rinchi Mi sta wallbangando Lancia una stordente Sono due autoresqua Lo vedi? È sulla torre sto cornuto Non mi fa muovere Vai via adesso Perché l'ho atterrato Arrivo, eh Finito le placche Ho finito tutto Esatto, andiamo via Andiamo Che c***o Ho fatto la sacca E le sacche hanno Ho cegito tutto Trovate, trovate Ho fatto Vado via Vado via Faccio di equipaggiamento per voi Medicinali laggiù Vav alleato in volo Dategli la caccia Sotto c'era una torre Stanno arrivando mica Con il pallone Direi di no L'abbiamo fatto Continuamente sti uomini Ma se non riusciamo neanche a Rusciare Qua dox è un po' C'è gente che prende il pallone Questa, sicura? Eh sì, erano quelli lì che dicevo Di stare attenti Eccolo, lo vedo A terra Terra, un altro Stato l'altro Non riesco a Baccato con la terra Vabbè, dai Oddio, sto prendo il canone Vado Per il dio Sono la più centonata Stanno sparando anche da sopra Vento Perché sono due sotto Un'altra Ma no, allora non ha più vinto No, che se mi è so Rolare questo Mi spara Sì L'ho distrutto Perciò C'è la collina? Ma dov'è? Eh, era posto È qua davanti C'è più C'è più No, vedete non c'è più Sto, prendiamo il tail Cominciamo a mandare un po' Tipo qua Vediamoci Dimenticate quello che ho detto Oh, flyer qua Mi sono andato a vedere Meta marcata Vuoi andare da sopra? Sì, devo andare dal mio ping Questo qua può Ma, sto buscando Ma ce l'ho proprio qua, cazzo È un cazzo Mi spara, no Mi spara, no Mi spara Mi spara Fatti che tiro sul muro Devo ricaricare, gioca Non ci sono Sto morto Sto morto Il tato non ho Non si è morto Sono due comunque Sto due, sono due Aria, destra Dai, bravo Staccato Vado a fare questo sotto io Lancia una stordente Lo vedo quello sopra Questo fatto Mi spara anche da dietro Mi sparano Ma perché sparano a me questi dietro? Non li vedo da qua, Cri Da dietro, da dietro C'è chi no? Ma l'ho visto? No, mi ha tirato giù C'è chi no dietro di noi, Cri Sotto Al mio livello Liar Ora il tuo alleato è nel Gulag Se sopravvive tornerà in battaglia Oh dai oh Dai oh Porco dia Comunque il tuo gioco ti dà delle soddisfazioni immense Ma ti dà porco dia Ma guarda Cioè ho ucciso quello in volo E non è morto cadendo giù L'altro l'ho craccato E non è morto Poi questo qua lo cracco L'ho rito di nuovo da craccato Non mi viene giù Cazzo stavo per fare la giocata Bella salvo, grazie per il like Iobono Poi uccidi gente in volo Affanculo Quelli a due metri di Iobono Non muoiono Ma quanta gente c'era rega Porto dia Ma infatti io non so perché Io non avevo schiacciato lì Non so perché mi ha dato il ping lì Io volevo andare allo shop laggiù in fondo Poi ho visto sto flyer Ho detto boh pushiamolo Ma non volevo andare lì cazzo Mi ha fatto premere da Iniziamo Occhio soldato Madonna come ti ho brainato Perdi e te ne tornerai Risolvi con le maniere parti O cattura l'obiettivo No no finito il tappettino L'avete visto ragazzi Ho finito il tappettino Sto andato là sotto Non ci voglio credere I tuoi compagni possono ancora liberarti Ho la prova dai Vaffanculo Non so ragazzi l'avete visto Sto ando arrivato qua Qua e non potevo più andare Cioè io quando perdo il gulag così Mi fai cazzare Ovviamente Il multiplayer in ogni game sto in cima alla lista del mio team E' solo che lì il time to kill è diverso Cioè è un po' tanto diverso Sul multiplayer puoi imparare un po' la mira Un po' il fatto del team player Ce n'hai uno sopra le tende sopra di te Joe eh Sì l'ho visto l'ho visto Non posso restare Moon eh Cosa faccio ci provo a prendermi le armi Non lo so Troppo rischi Ci vorrei provare Oh si stanno buttando su di te mi sa quelli lì eh Non mi ricordo neanche più dove sono morti in realtà Oh si è venuto scendere proprio qua Non vuole armi Credo che erano scuri Odio Ho un attaccato E' morto Ce l'hai Kree? C'ho un team davanti a te eh Team davanti a te tipo qua Visto 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 Uno sopra Qua Vediamoci qui Sì sì mi sta mirando a me Mi ha sentito il vetro Ho sentito Cazzarola Qui c'ho quelli dietro Dai oh ma chi è? Mi sparano pure Cazzo Uno ti sta pushando E' venuto qua eh E' venuto qua eh Ma non ti credo Moon M'avevi visto Mi ho visto Mi c'è sempre No ti prego Fami prendere almeno le armi Sono di nuovo loro Rizza Rizza Dottor Erma Eh cioè non ha senso no Mi sono fatto lo stick L'ho distrutto Lui è uscito Mi ha ucciso lui Dopo che io gli ho sparato altri colpi Sì sì Nel momento Su Warzone Essendo che devi sparare di più Devi rimanere in mira di più Quindi è un È un gioco diverso Avvicino L'altro spari due colpi Uccidi Invece qua È un po' diverso Secondo me E' un po' diverso E' un po' diverso Bella Ciao 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 a tutti Ciao Ciao Com'è Va bene Stavo divertendo Un multi Minchia Un multi Penso che sia una di quelle cose Che mi fa più incazzare TDM Cosa C'è gente che non muore mai C'è che non muore mai Scusami C'è Mori subito E Praticamente c'è gente che campera C'è gente che ha asti Pompa Tipo che mica Ti pushano con un colpo Ti distrugge Bombardi Eh quello sì Altra volta Stavo facendo su Vanguard Il Gorenco Cos'era Mica C'era gente con il Sopra l'elicottero Dall'aereo Tipo a sparare da Affanculo Che lì se non hai Tipo i bazooka Per buttarlo giù Questo rimane lì Finché Non gli scade il tempo Cioè Io veramente Cioè era bello Il multiplayer Dove quello che giocavo io Che tutte ste minchiate Erano tolte C'era una moda apposta Per fare Tipo cerca e distrugge Allora è carino Ma così mica A me fa Impazzirmi Pazzisco proprio Però penso che Se c'hai il tuo team Multiplayer Fai in modo Che non fanno Le streak E Gli sovrasti Dopo si Da taglia Boh Sì Perché se ti gira male Che tipo Quei random Ci sono certi random Che si mettono Proprio alla base A camperare Arriva la gente A pushare Aggressiva Dopo lì E un continuo morire Poi ci sono delle mappe Fatte proprio male Se non mi ricordo Qual era C'era qualcuno Sul Pacifico Che venì Cioè praticamente Te rimani sempre A spawnare nella stessa zona Loro spawnano nella stessa zona Quindi trovi sempre La stessa gente Messa nella stessa posizione Non esci Non fai In nessun modo Vicino Sono sempre Tutti che camperano Tutti che aspettano Che Un po' Perdo la testa Io sono Multi Perdo la testa E' Perdo la testa E' Perdo la testa Controllate l'attrezzatura, c'è tempo prima della missione. Madonna mia, poi vedi, sparo a sti colpi qua, sta gente, muoiono tutti da lontanese. Sono pronto, la zona di guerra vi aspetta. Come volete andare a destra, anche un po' a bordo, sì. Ah, qua, dici. Prendiamo l'altezza sopra. Quindi dal blu? Eh sì, blu, no. Perché sei un po' brutto arrivato. Molto lunga. Molto lunga. Molto lunga. Eh, Erik, grazie per il like. Buongiorno, come sta Erik? Ho un botto di gente a fianco a sinistra. C'è una pallina all'acqua. Tende e parla all'acqua. Tantissimi. Dobbiamo cercare di luttare veloce e cercare di prendere l'altezza che c'è. C'è l'aereo che rompe il cazzo, guardalo. Sì, mi è passato oltre. Ciao. Burtaglio inizia. Dunque questa scuola di ieri è proprio una minchiata. Con contatto. Arriva uno in quella casa. No, forse va sopra. Ringato uno. Non ho un'arma, cazzo. Pule è sceso sotto. Pule, armi qua dentro, belle. Pule è... Hai detto... Pule è deep inside. Solito le trovo io, le trovo. Non sto oltre a fare il mio Riddick. Pule è toccato, porca Dio. Vediamo subito l'altezza? C'era gente dalle tende, due team, che si faitavano. Andiamo a salire, dai. Pertanto, per se siamo fortunati... Dai, sinistra o da destra? Finistra, sinistra. Mentre saliamo dovrebbe scenderci qua, no? Spero. A vedere. Eh, ormai siamo già arrivati a scendere nel lago dietro. Faccio di equipaggiamento per uno. Che non è proprio alto, però. Vaffanculo. Madonna, mi è spaventato. Casse in movimento. Ho dovuto vedere dalle tende se riusciamo a faitare. Ha restato sotto lo shopper. Parabarabam pam 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 Magari sono scelti giù dallo shop, dall'oddy che è scelto giù di sotto, sta nell'angolino là, qua dietro? C'è? No, non c'è, non lo vedo. Non importa. Sto facendo una conquista, però porco Dio, è un po' strana sta cosa. Perché non è che... Dietro hanno arrestato e stanno facendo una bandiera dall'altra porta del fondo. Cambio posizione. Due rest. Due rest. Due rest. Due rest. Due adoro. La sacca. Uso una clamor! 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 Io, 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 io! Maledetto muva. Ok, hai visto il terrare qua. Questo bersaglio è ostile! Stiamo passando al ponte e fare 1v non c'è il shop, grazie. Sì, sì, sì. Vuoi passare dall'altra parte? Vedo laggiù, ragazzi. Beta marcata! Quasi, quasi. Lontanissimi laggiù. Sto fightando? Sì. Sì, perché c'era l'altro team sotto che è arrestato. Ma voi siete proprio crossati open, dritto per dritto. Eh, ma siamo coperti, loro sono dall'altro lato. Sì. Ho capito che c'era anche gente sotto. Vanno qua vicino a me? Sì, ce l'ho. Sì. Una terra. Ok. Un colpo a segno! Rapporti! Un colpo a segno! Bello, una casa, una di protette qua. Sì. Stato a terra! A terra! Sì. E' Mica ucciso! Non importa! Quasi stava mezzo salendo. Potrebbe essere mezzo salito l'ultimo. E io ho paura, magari ci pungeremo qui. Ma mi sono arrivati i colpi! Dimitra! il player è davanti a noi non mi ha sparato però un player atterrato quello lì vediamoci qui sotto, da sotto mi sparavano posso ricaricare munizioni, cazzo, non ne ho neanche io ne ho vediamoci qui non me li ha presi, dimenticate quello che ho detto non me li ha presi porca dimani ma non so perchè non me li ha poi ti ho detto boh l'avrà presa, hai cambiato arma, tu sei mosso sto gioco è proprio scemo mi ha un voto i soldi non l'abbia il shop, lo shop è sotto hanno restato qua dietro, raga, di qua guardate in fondo, dimenticate quello che ho detto oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena beh io vedo, aspetta oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena oltre un'antena che vede, aspetta Mi vado a cover, vado a cover Sto morendo, sto morendo Raga da sopra, da sopra dietro, sopra dietro Mi hanno confermato Un tuo alleato è finito nel culo Mi dovrà abbattarsi in una retta Oddio, oddio, oddio Un altro qua davanti a me, lo stanno pushando Ma porco dio Che culo con sta granata One hit mi ha pushato questo Non ci credi? Quindi dammi info Bene, ne ho uno attaccato C'è un altro Sto pushando, non c'ho più colpi Porco dio Gli stanno sparando L'ho craccato, l'ho craccato È seressato, è seressato uno di questi Eh, sì, mi sta venendo a confermare Una terra? Meglio le mie armi Eh, io no Ho quella del gula C'è un camion che mi viene da dietro Un camion che mi viene da dietro Non ti conviene sparare Adesso ti spotta, cazzo Cazzo Granata partita Buono rega, per me è l'ultimo Granata partita E' così sotto, ragazzi Eccolo Dai, questo po' c'è 1100 No, avessi avuto i colpi Alex Secondo me, questo qua che mi pushava L'avrei ucciso e E' sarebbe stato tutta un'altra cosa L'altro l'avevo già atterrato L'altro l'avevo già atterrato L'altro l'avevo già atterrato E' erano tutti atterrati Perco dio Perdi e te ne tornerai Risolvi con le maniere forti O cattura l'obiettivo Non hai avuto più Preparati all'arrientro E' un po' solo che sei vicino a loro Di nuovo, no? E' sono ancora lì quelli Io ho beccato Piero Nascio Caldo Cassa di scorte in campo Prelevare Ma dico, poi saliamo E ce l'aviamo sempre di nuovo sopra E' possiamo Possiamo rimanere in capital E salire col pallone In dalle Aspetta Madonna Io non ho solo uno Ma ancora l'ultimo nuovo Ma come ha fatto a non morire? E' una brutta ferita Se tu il shop non ne hai qua E l'hai io sotto Stazione medica segnalata Stazione medica segnalata Annullare Stazione medica segnalata Anche esistenti vediamoci stazione medica segnalata un vittore marcato buono sei in troppa andrà fuori safe lancio di equipaggiamento per voi è un team ancora dietro cassa anche proiettili arrivano l'obiettivo è eliminare il bersaglio dove è la casa proiettili è lì vicino alla shop ok sono qua sotto ragazzi sono proprio sotto di noi uno è ancora in opera una terra raga mantirate una bomba mantirate una bomba sopra non preoccuparti ce la farai può prendere le scale non lo vedo io qua fuori per me non sale granata lanciata un team sopra un team sopra un team sopra niente vado giù vado giù questo piglia il pallone ha preso il pallone uno il tutto marcato è ma indietro raga c'è un team sopra la montagna non li vedo più sai sono scesi UaV alleato in volo dategli la caccia io ma mica era tutto in testa infatti non so un po' ce n'è uno lo vedo non so se un flyer è comparso adesso lo sta camperando no raga sto sotto mi fa mi fa son morto raga bravo bravissimo questo è un flyer questo è un flyer bro eh mercato pittato bianco ma prendeci le sue armi eh prendeci le sue armi eh oh c'è ancora sopra c'è ancora sopra andiamo sotto andiamo al pallone è il pallone sul campo ah n***a li stavo flancando io raga vabbè quella ha preso la corona e il pallone eh la prima cosa che cazzo mi hanno lasciato giù là da solo raga c'è un soldato arriva arriva mi stanno flytando quelli da sopra ricercato e eliminato io non ho scudi non cazzo la raga non so ce dobbiamo posizionare qua o dobbiamo andare qua eh o altezza o andiamo là un'altezza da prendere vai mi seguo mi seguo non so non so per lei dove volete o lo facciamo subito però stanno ancora flytando e adesso dai andiamo vai approfittiamo dai andiamo guarda che non siamo tanto ce n'è anche uno qua davanti eh c'è uno qua davanti c'è uno qua davanti c'è uno qua davanti c'è uno qua davanti Terra 2 Terra 2 sotto di voi Due a terra raga Da dietro da dietro Fatti tutti Sono quei due cavate errato Non so se sarà restato Da dietro da dietro raga Non ho più corazze L'altro team Arriva 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 No non c'è una corazza qua Qua non ho chiuso un'altra Qua parte Puro l'ho fatto di quelli dietro eh Ho un pallone raga Magari rimarrei a altezza se riusciamo a faiettare questi non so No ve lo dico se poi serve c'è un pallone Siamo tutti nella zona sicura Vieni che ti do placca raga vi do placca venite qua Gio ne hai tu No no lo vedi che non ne ho Vieni Potrebbero venire su questa collina qua raga Dimenticate quello che ho detto Noi ne sono rimasti due da quanto ho capito Sì perché uno l'ho fatto Cioè tre scusa E due Sotto là Vittato Vittato A terra Sotto sotto Traccato Zartare degli scudi Ah c'è la cassa, c'è la cassa, c'è la cassa, c'è la cassa, c'è la cassa Ah sì, è vero, tiriamola pure perché c'è in tutti i voti Il nemico è sulle tue tracce È gliciata, raga Non ci voglio credere, oh, ma che palle Oh, l'ho presi, l'ho presi, da qua, sdraiato qua, così È vero Ma pensa a te, oh Abbiamo il team al faro, che era la nostra taglia a cassa regata Lasciamoci salire tipo anche da qua sotto Hanno fatto un drop qui? Vado qui A power, sì Pappa uno è bellissimo, questo qua è bellissimo Uno è questo qua è fermo Attacco il tiratore Bersoglio marcato Abbiamo ucciso ovunque, ovunque Ma picchiatro, ti pazzi, ho chiesto una copertura qua, ce l'ho andato io Però era meglio, io sniperavo quelli laggiù e uno col mitrone Andiamo al pinzio Stanno fightando da whooping gun Faccio di equipaggiamento per voi C'è un drop qua? Dai ragazzi per il like, ciao come stai? Massima attenzione, un team nemico ti sta dando la cassa Daniele, oggi sei soprio Daniele? Arancione, arancione Io sono arancione L'ho aiutato 18 volte qui Terra, 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 terra Ma siamo sotto due cacce, ma com'è possibile ragazzi? Vieni qua, vieni qua, vieni qua Dalla casa Io infatti vedo Moon e Giotto, tutte e due Io vedo solo Moon A giro, a giro, c'è una volta Moon e poi c'è Giotto Moon e Giotto E' vero E' vero io con l'arancione C'è, hanno arrestato qui sotto Questi sono molto close Infatti stanno fightando Ok, sono quelli della taglia, sono quelli della taglia Due flyer in giù Bombarda, ok bombarda Grazie, dove stai A terra, guai Di trallodi uno Sono atterrato uno di trallodi qua C'è uno qua nello sniper è qua Ci sta salendo, ci sta salendo da lì fianco ragazzi Fianco dove, fianco dove? Guardatevi là Qua, 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 questa direzione Di là Nemico individuato Sì, l'ho visto qua Terra uno Un altro Devo ricaricare l'arma, aspettate Qua dietro Movimento Straccato, dobbiamo guardarci anche dietro, rega Terra uno E' un altro Bombardo Bombardo di precisione Bombardamento di precisione nemico Grazie, è il problema Pro lo va atterrato, cazzo Questi qua ci stavano pushando Saranno scesi, rega, dai Un'altro Uno l'ho confermato io Un'altro l'ho confermato io Visti in tempo, pizze Pizze Ok, uno me l'ha confermato non so dove Uno è dentro la cada qua Stava fightando Non so se c'è un altro Ha fissato, infatti c'è un altro sotto c'è due almeno qua almeno due uno l'aveva atterrato mi sa che si... cioè l'aveva tirato sono sicuro qua 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 stanno crossando straccato uno ok diciamo che sono nella casa lì straccato uno finito le muni qua c'è qualcosa che ho raccetto io vabbè ma io adesso io andrei in questa casa qua che è la più alta marco un fucile d'assalto quando sparano mi sparano addosso qui mi sparano raga ho uno su sto tetto attacco il tiratore dai lo faccio scendere qui c'è un bersaglio ho dovuto scendere dal tetto staccato uno sono in due raga però non voglio che salite e venite qua io a terra ci restano solo dieci sono sei persone quattro team sei persone sono tutti rimasugli mi raccomando sono nella casa a fianco qua io quelli che ho atterrato uno è passato qua sotto adesso sono in due lì sono in due lì esatto guardo la finestra sopra io vediamo come si chiude la safe e poi vediamo se pushare o non pushare 41 metri ne pingo due lì dentro bella julienne grazie per il like allora sono forse sono ancora più in là sono dentro sono dentro qua li pingo 40 metri il problema è che poi non abbiamo oh è sopra il problema è che poi non abbiamo il cross no io pusherei adesso perché poi è open vai si è buttato subito aspetta uno è dato sto due team raga l'altro è sopra ho capito ma non ci sono il tempo di si buco dietro terra uno sopra mi ha fermato in teoria no si è restato ne ha approfittato il team dietro puttana troia mi ha benvenuto usato tutto che sono postibili raga la casa dovrà un prima ma no siamo dieti siamo dieti aspetta stanno pushando stanno pushando stiamo sotto si non è partita occhio occhio la finestra dove miravate perché se fuori c'è l'ombrellone possono salire dalla finestra direttamente al piano sopra si c'è l'ombrellone e occhio perché possono arrampicarsi ma perché gli altri non arrivano vai a vedere vai a vedere il retro un attimo la stanza dietro ho paura che perdere il time possono salire ah no non c'è l'ombrellone ah si possono salire lancia una stordente eh sono sotto aspetta no secondo me se riuscite a rampitarvi sul tetto è top lasciali fare fatemi giocare che mica 200 informazioni rega non serve un cazzo madonna mi sta laggando gas in avvicinamento nuova zona sicura uno dietro qua no dai non mi si abbassa uno è giù attacco a grave al riparo fuori sono morti se riusci a restarmi veloce all'istante qua eh non so giù vura fuori non è ancora ci sono stiamo qua non so non so dimenticate quello che ho detto di nuovo pronto alla nuova zona sicura gas in arrivo gas in arrivo in strada fino alla zona sicura c'è gente dentro l'ho sentito uno ce l'ho largo da me mamma mia guarda come mi ha troccato ah ma è ancora l'altra team si si erano tutti i full comunque non mi ha quando sono andato sul tetto porco diazo continuavo a schiacciare il tasso per scendere giù non mi scendeva giù non mi scendeva giù l'ho persa io lì questo è 14 kill brega io devo andare mi spiace lì per il push però nel senso pushiamo subito mi sono lanciato giù devi dare il tempo agli altri perché se te sei già dentro c'hai un timing di apertura della cosa che magari un metro è due metri quando dici pushiamo tu ti sei già lanciato stavolta ti sei lanciato va bene si però per entrare un conto è pusharsi in un punto alto dove io sono in posizione e pusho bene un conto è entrare dentro una casa che la gente può essere camperata è meglio stare un po' più vicini capito solo quello non è che ho detto altre cose no no ero ancora in volo non potevo neanche entrare ero ancora in volo buon game ciao 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 eh sì anche questa era buona anche porco diaz eravamo l'unico team da quattro poi ci siamo fatti scopare tutti porco diaz immaginavo questi qua io avevo paura di pushare questi qua nella casa proprio perché minchia c'avano mine contro mine, ci avevano cose lo sapevo che erano veramente un infatti io volevo piuttosto intanto pushare dentro la casa e sapevi di essere safe e poi vedere un po' come giocartela che tanto eravamo in superiorità entrare in una casa così che ti esplode una mina e mori in due o tre intanto era da scendere giù e prendere posizione sotto che tanto è dispersivo mettere anche le mine o cose sotto sicuramente le avrebbero lasciate solo e poi giocartela dopo solo che mica siamo arrivati eravamo già in due oi ahia che cazzo non ce non non ce non che non che non a . eh si l'avevamo presa in mano comunque eravamo in quattro eravamo così peccato che la safe si è chiusa proprio perso di loro erano sei persone porco dia se noi eravamo in tutto quattro quindi eravamo in tutti a me mi ha scopato l'altro team dalla casa sinistra di quella che abbiamo pushato è lì adesso io non mi ricordo la situazione però io mi sembra che probabilmente ero sotto quindi io non mi sono non ho aperto il paracadute per pushare quindi già si è trovato subito lì poverino ma lì come cazzo faccio non sono sopra beh io ero un pelo più indietro di lui ma quando sono entrato la lancia da tutti bravo iniziale ma lì mi stanno giocando l'aerico Uccidete i nemici senza che lo facciano loro! Meta marcata! E' stata scoperta una bomba nebula 5, attenti! Oh la seconda Mv2 c'ha una bella grafica! Io spero che tolgano un po' di open perchè... Ho visto alcuni video e sembra che però è anche troppo... troppa città! Vediamo di nuovo quelli in Verdansk e quel punto dove c'è la città! Però è tutto c'è... Verdansk era una casa dove c'erano praticamente solo le scale e arrivavi su lì! E' una casa con miliardi di stanze, di cose... Probabilmente è caduto l'altro lotti di fianco E devo andare su a prendere la taglia! Eh si sono andato io... Ok ho fatto giro largo... Non c'ho voglia di farlo stambecco! L'ho fatto io già! L'identità del bersaglio confermata! Fuoco sotto! Padre raggiunge... E' un po' di... Ah, che giallo! Un po' di... ...cettino sistemato splendido... Ah, oh! Ricognizione urgente... anticipare quelli lì lì sotto mi chiano c'è anche sta gente che prende l'altezza questi taranplay a quelle per non fare vorrei prendermi che si può bluare però sono attirati da quelli la di sotto uno è sparito forse c'è il vostro avranno troppo di sotto non sono riuscito a confermarmelo comunque di un divinemico ti sta abbraccando fermato sei riuscito si si in posto ti necce a due vediamoci qui ecco lì la casa rossa è one shot non l'ho atterrato uno ah ok 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 chi si spara traccato 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 one io ho uno da me eh ho paura che mi distruggesse con sto pila porco dio ho una paura ti ha parlato male chi è quello che ho ucciso non è che sentire oh presso 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 qua è passato uno adesso sta salendo sta salendo sta salendo sta salendo prendersi le armi provabili chi c'ho davanti a me vediamoci qui io mi faccio da esca eh nato mi prendiamo perché siamo sotto terra uno non so quanto sono perché arretto ah vabbè v v v v v rega v v sopra dai più soldi sto andando a culo di dei ho visto del denaro v v v alleato in volo dategli la caccia insomma c'è nessuno fate prendere un altro rega c'avete un botto di soldi c'è il soldi lascia oh non ci sai niente di uomo l'assurdo vabbè alla nuova zona sicura gas in arrivo vada regalano uovi a qualcuno contratto confermato diamoci da fare cassa di scorte marcata prendetela ah qua è questa qua si veramente se ne so dovete andare lì? no andrete 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 un altro uovi ho visto del denaro ma voi lo potete tirarlo guardiamo qua venga 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 venditore marcato venditore marcato venga la mano però che che può perdere bandiera a destra anche c'è l'unità in volo sono 9 ma il secondo ma è lontano eh io non vedo un cazzo qua un po' 2 sotto uno è un flyer è sceso adesso non potete vedere la cosa ma c'era che avversa l'altro non vuol benga è uscito dietro eh anche l'altro è andato no vabbè no vabbè c'è un altro c'è un due lancio un assordente non c'è un altro c'è un altro ma l'hai tirato su ma l'hai tirato su non finchè ci sono io l'hai tirato su perché magari se aiutano era un flyer non ho visto ma forse avuto scollato nel tetra Per colpa di sto cazzo di coso verde non riusciamo a prendere la taglia. Ma nessuno lo prende veramente? Non ci sono le scale. Però da uno sgabellino. Come hai fatto male? Ho visto chi ha il cervello come Moon. Zero muscoli, tutto il cervello. Voi colpimi in traghietta come siete messi? Oh, chi se sa. Io in traghietta... Contratto stracciato è finita. L'obiettivo è andare in versato. Io non voglio andare là, però non c'ho voglia. Io sa cosa so. Non mi gusta lì. Il problema è che qua non ce l'ha nessuno. Vediamo se riusciamo a prendere un UAV. Ah, ne abbiamo un altro noi, in teoria. Tu ce l'hai? No, io non ce l'ho da contare. Sì ce l'hai, Moon. Non me lo fa vedere. Ora si c'ha il 3? Sì, ma non me lo fa vedere. Ma smettelo. Quello giuro, Cri, non me lo fa vedere. Ma smettelo. Ma sono entrato nel Discord. Non ti ricordo. Ma ti so, ce l'avrò tutte a testa e cose. Eri nel Discord, ma non ti vedevo. Ah, smettila, ma... In gran nessuna. Ti mando la clip così che tranquillo. Stavi già facendo la clip? L'ho già fatto. Ahia... La clip... Stiamo veramente, non ce l'è solo. Adesso dovevo spawnare l'ex per taglia. Ah, due minuti è fermato però qua. Effetto bomba nebula 5 è dissolto. Varea è sicura. Siamo a farlo. E il gas si avvicina. Nuova zona sicura per voi. Attacco il tiratore. Eh, comunque siamo in centro. Ho localizzato un contratto taglia. Siamo in centro però. Deve stare per forse in altezza qua. Comunque c'è... C'è questa taglietta che... Non mi dispiace. Se ci avviciniamo un minuto dai. Un minuto e dieci più o meno poi ce l'abbiamo. Fa questo cross che non mi piace. Il pallone per falli. Il nemico ti sta ambraccando. Clipper. Cosa stai scrivendo Alex? Qui vedo qualcosa. O, B, B. Cosa è un enigma Alex? Che zulti. Dai 30 secondi ci prendiamo la super taglia e la pushiamo eh. Pro, arancione. Taglia, taglia. Oh, li vedo qua dallo shock. Avvio. Io sono l'uomo clipper. Per la collezione. Ma dei scendini, intendi? Inle c'è tre. Vedevo una cosa a fermo. Non capivo se era un... Micchia, era lì che mi guardava. Era lì che ci guardava. Questo qua. Vabbè. Va bene. Oh! 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 Gli ho visti, sono sopra. Stanno arrivando. C'era uno. Sto passando. È stato uno. Sto passando. Oh! Oh! Altri tre qua! Vediamoci qui! Allo shock, lo shock eh. Fammi sniperare prima un secondo. Dovevo fare un colpo almeno. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Spara, spara, spara. Scracato quello là. Cercino, cercino qua. Scracato. Scracato, cercino. Scracato, cercino. Qui, in Phoenix 3. Attacco in corso. Scracato, cercino. Mi dico che sta andando partizione dalla strada, raga. Provo di ciparlo io. Sì. Troviamo da provare a confermarlo. colpito vedete? si è stato ricognizione urgente dentro l'ho fatto è uscito da dietro guarda un altro qua ritorniamo sopra ho localizzato un contratto taglia sia perchè faccio la collezione di clipper sia perchè mi piace fare le clip ahahahah davvero ci pensavo più a clipper inteso così cazzo mi lascio i soldi se volete io vado a shopper io vado a shopper devo prendere solo posizione magari che ritornano quelli la ho sentito sparare di qua ma compro il drop e facciamo ghost o va bene così? come vuoi c'è un bot di soldi si dai dai questo è un guaglia tu ho preso il drop e vuoi ma è stato qui sotto da me eh? UAV alleato in volo dategli la cazza cattolo il player cattolo craccato io non ho più muni raga ce li hai da dare terra metterla con la casa cattolo il guaggamento in arredo vabbè vabbè volevo pushare vabbè volevo pushare ma hai tirato nel momento l'avevo attirato uno pushare cattolo 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 io non so dove erano eh rossati subito di là lo tiro? no tienilo ancora un pochettino ma ora viene dietro di noi quattro a terra parte mentre distrutto poverino ho tirato un pallone di là non so cosa ha avuto da lamentarsi vabbè mi è piaciuto avvenuto ben poco arrestato di nuovo stanno sparando qua nemico individuato arrestato eh? sto scendendo giù si terra c'è un altro qua questo bersaglio è ostile eh quello non lo vedo io sono 9 team bisogna giocare c'era 20 persone dov'è che sono questi? qua sotto dove fanno questo uno qua? ma questi sono furbi non salgono più qua c'è gente eh vediamoci qui eh ma invece possono salirci io controllerei si ma è meglio se controllate voi con lo sniper io magari mi corro dalla parte di là la distanza la distanza è buono qua sopra rega riusciamo a tenerci la situazione siamo in più a t tutti 3 drop un po' vicini eh raga dopo qui negato c'è gente sicuramente sale dall'altra parte del ponte ma dobbiamo guardarci ma c'è gente? si ah dall'altra parte è un bersaglio italiani ma buono qualcuno adesso dobbiamo sfruttare anche un po' il mio sniper ne butto giù ogni tanto qualcuno da lontano il gas vi raggiunge vedete vedete ci sta salendo qualcuno ho sentito i passi vedete davanti a me mi hanno colpita sono ancora qui però non ci siamo guardati bene rega così eh ho collato che era meglio se guardate voi dietro io mica c'avevo una una mezza collina ho sentito solo i passi ho fatto l'altro oh gente qui uno one shot un altro one shot uno della casa qua eh si l'altro qua dietro alla torretta si chiudere deve venire verso di noi il problema è che dobbiamo lasciare anche il resto one shot di nuovo è andato nel gas quello morirà è andato uno è sceso sotto in paracadute nel gas è regione UAV alleato in volo dategli la caccia abbiamo uno proprio sotto ho fatto a sniperare tipo qua vediamoci qui vedo che è lì ma non vedo qui sto trovando a salire sto qua adesso sei negli ultimi dieci anni chi me l'ha? ne ho tentato eh ne vedo uno qui che mi intanto mette poi della testa annullare intanto dovremmo andare di là devo stare attentissimi adesso buono devo venire loro da di là di qua si guardiamoci sta collina che comunque qualcuno sotto c'era sempre eh si il nemico facciato la collina rega che si può lontanare secondo me dovete lasciarmi lì a me dovete guardare le cose vicine perché io non sto andando via sto andando via caccato uno gli sparano da sotto eh da sotto di qua gli stanno sparando vediamoci ci andiamo all'ultimo momento al timing eh in teoria dietro dovremmo essere copertissimi hai colpi da darmi? si stanno fai troppo io li ho finiti tezzi avevi sniper tu qua il ping verde c'è uno eh il ping verde c'è uno è quello che ho cercato prima mi sa prima 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 ma io guardatevi voi sotto io mi guardo quelli io non assalto eh ho 30 colpi eeeh c'ho la cassa dai te dai che scudo raga se strozzo qua sotto c'è lo scudo ma perché sei scendo ho tirato una cassa moon 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 la cassa cazzo non ci ho pensato che eri sotto perché sei un pazzo scatenato ok possiamo scendere due team eh quattro persone guardiamo il team sotto lì al ping e poi gli altri pronti qua eh non mi sicuro eh questo bersaglio è ostile granata lanciata c'è la gente qua eh si sono buttati sono buttati ok ci sono gli ultimi qua sotto eh gli ultimi due qua sotto è open eh questo dobbiamo ucciderlo eh tipo qua open non è possibile che non lo vedo ma cos'è dentro a sta cosa di legno c'è la terra ci sparate dentro a sto legno lì che ho pingato per favore ah quello lì sì sì ecco ecco e c'era l'altro che era più o meno lì non ho capito se ancora ha perdito la collina è uno è uno uno può essere in casa magari già non lo so mi sembrava dietro a me non è una posizione sono in safe eh ma eccolo qua ce lo vuoi riuscite mica a coprirmi che mi ha otto il resto vedete qualcosa non vedo niente io anch'io pensavo fosse di sotto col trofi noi immaginiamo prendeva altezza era la cosa migliore prendi altezza almeno c'è gli altri sotto beh vabbè gg gg avete fatto tutto voi bella ggg cazzo nice next io mi sa che faccio l'ultima gg gg bella salvo Grazie. Eccomi scusate. 16 kg ottimo grana. Bene bene bene. Non mi ricordo se sono andato nel culo ma mi sembra di no. Abbiamo fatto il game abbastanza standard. Non abbiamo pushato troppo. Abbiamo pushato il giusto. Queste sono proprio la... Le easy win. Senza neanche faticare troppo. Nel momento che sei posizionato comunque questo gioco è troppo pizzerà. Avessimo che cazzo ne so pushato come i pazzi fossimo stati giù al posto loro probabilmente avremmo perso qua nel senso. Purtroppo in questo momento lì della safe bisogna pensare subito al positioning. non mi piace scusate il momento. Non mi piace scusate. grazie mi raccomando andate a vedere il nuovo real sia su facebook e su instagram ragazzi commentate mettete like condividete fate il devasto ragazzi questo è solo un piccolo assaggino arriveranno delle kill che saranno delle delle robe delle bombe rega delle bombe è solo l'inizio queste sono solo una quindicina mi sembra 20 una ventina di chi su un'ottantina che questo è solo un piccolo assaggio ragazzi il grande problema di sti video è trovare le canzoni adatte guarda ragazzi stiamo facendo una fatica a trovare canzoni allenatevi finché potete tra poco entrerete in campo sta arrivando attenzione in alto basta scherzare basta scherzare attenzione in alto attenzione in alto Lancio di denaro in arrivo. Intercettare il carico. Il garage pieno. Sì, ora ci sono due piazze. Uccidete i nemici senza che lo passano loro. Sì, sono all'alerta oggi. Ho visto il missione, ho detto poi la apro e basta. Ho lasciato la roba, poi è andato via loro. Cassa di scorte in capo. Prelevare. Dov'è? Davanti a me. L'hai tirata tu? No, no. Vabbè, facciamo il lobby, dai. Ma ti dà solo un bar. No, dà anche i soldi. Non ti aveva dato, por di Dio. Tiro. La faccio il lobby, no? Sì dai, uno tiriamo, ne abbiamo due, dai. Tiro. Tiro io. Visto del denaro. Tu avrei alleato in volo, dategli la cassa. C'è un granario. Meta marcata. Qua c'abbiamo un fly. Lancio di equipaggiamento per voi. Le go go, fast, fast. Tre drop le due. Cassa di scorte disponibile. Questo è... Meta marcata. Un cristiano. Lancio di equipaggiamento per voi. Il gas è sempre più vicino. Sì, prendiamo il pallone. Sì, sì. Ah sì, anche. Eh. Io vado da sotto così non vengo spottato, dai. Vediamoci qui. Che sono già sul lobby. Uno è dal camion. Stanno già fai tanto questi. Una terra. Ho sprecato un altro. Un altro barra. Un altro barra. Un altro sotto. Perfetto in destra. Ricognizione urgente. UAB in sorvolo. Questo UAB l'ho sprecato in pratica. che bello fare 400 danni e zero kill maledetti che bello farne 302 è scemo ma tutto bene? c'è un pallone qui raga potenziamolo da cattolino eh io ho la cassa di plak che è forse un po' più utile del pallone faccio il pallone e ce l'ho lì l'uo vince non è rapingato anche qua meta marcata andiamo a storage dai non sono sicuro ma mi è sembrato che c'è il pallone nostro e sarà presente quello che abbiamo preso già lì mica io ho tirato qua che non ho visto nessuno stai sicuro? eh ma sono attaccato bene tutti due li vuovibri hanno tirati? eh sì quando l'ho tirato un secondo non pighavo nessuno per quello che dico non lo so no ma mi è sembrato adesso che ho tirato ah ok adesso sai che scende vicino al pallone lì scende l'ho dato io ho bisogno di comprensione andiamo a vedere sotto lo vedete voi però dobbiamo trovare qualcuno qua sto c'è sempre chiunque quando ci vediamo noi così non c'è nessuno poi a timing arrivano i 200 sta andando giù a load e lo so mi si era bloccato dentro la cassa si era incastrato sono stato sotto la pallone hai visto che c'era qualcuno era appena droppato giù adesso non so se era lui diciamo il restato perché è appena finito rimane per un bel po' ha preso il pallone bersaglio in vista qualcun altro che gli spara di lato tipo qua vediamoci qui eh sì sempre a me mi sentate cerca di coprire le tue tracce sei la preda di un team nemico non ho mai capito dove era la no cassa in avvicinamento nuova zona sicura ma se questi ipotetici sodo non ci salgano non abbiamo una taglia non abbiamo un cazzo ma perché non c'è niente alla nostra parte se no ci spostiamo vaffanculo da come si chiude la save secondo me comunque più o meno qua in altezza ci si chiude possiamo provare a pushare e vedere dopo la posizione guarda fatti questo sull'elicottero sopra prova e ferma sull'elicottero eh non lo vedo eh invece sparava dall'elite eh ha preso l'altra arriva da noi no bello distrutto dato che leggo avete colpi di sniper? sono a zero tieni l'ha lanciato lì sotto oh se possiamo anche un secondo vedere se troviamo i soldi per il uo via eh qua era tutto da ruotare il problema è che gli stop non so non trovo niente ma invece ma invece magari adesso ci arriverà nel momento in cui non guardiamo un cazzo è così eh è proprio è così ho trovato un po' di soldi l'ho trovato se no andiamo se no andiamo è ricatturata anche la carta potremmo anche andare di la eh anche lo shop e vediamo il bancare aperto c'è il nostro loadout ha messo il disturbatore li pusciamo il blu e non so qua dove c'è il disturbatore vediamoci qui vediamoci qui oh no lo da hai seminato i cacciatori nemici e ha studi oh mi stanno guardando davanti a me mi spavano addosso ora a fianco guarda 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 ora qui c'è di fianco a sinistra granata avanzata arrivala fatto era uno solo questo non ha dato non ha dato guarda a fare i wav mi dati i soldi qui vado io sotto guarda eh eh no vi lascio perchè c'ho anche il bombarda vi lascio la porta ma te lo tiri subito eh ma metti io il bombarda me lo tengo l'ho rotto qua UAB alleato invo non lo so non lo so c'è una nuova zona di sottola apriamo su ah si si anche lì anche lì anche lì va dio va dio va dio si chiude proprio nella zona che non mi piace l'obiettivo è eliminare il bersaglio no è il fil vediamoci qui vediamoci qui vediamoci qui vediamoci qui vediamoci qui dai che trovi i soldi vuoi andare a arrestare qualche tuo amico ti fermo davanti allo shop e ti sparo bene e invece niente no mezza marcata dimenticate quello che ho detto che è quasi addosso è comunque dei venire eh brutto game porco dio lento da far schifo non c'è nessuno no poi non ci sono tagli tutti i dettagli ce li dava putemburgo vabbè lo putemburgo un po' non so prendiamo il pallone e andiamo veramente vediamoci qui vittore marcato dimenticate quello che vediamoci qui vediamoci qui dov'è che c'è no? su un'altra calme che c'è KO ecco c'è ne mille intorno ho sentito tirare un load out qua sotto è andiamo col pallone su dove bro? come è dalla collina l'altra? io non ce lo vuoi di star qua basta io push io scordo che cazzo me ne metti parte di merda mi sto strozzando mi prendo niente qua ti fai stavo si imbato la vita forse eh e lì dove si fanno mettere la vita marcata si sa che te l'ha buttato guarda qua non è becco manco guarda che è un attacco due due rest vabbè riporto la stanza un auto rest qualcosa è ancora rimasto forse è il gas che ti fa tossire madonna mi sa la saliva sento una sniperata terra attacco aereo su questo punto no me l'ho tirato addosso il bombardamento mi sono faiati sotto niente mi sono faiati troverammo noi al buco eccole la sopra no un tipitero è e io sono sceso becca 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 non l'ho atterrato un arrestato sotto di me bombardamento di precisione alleato attenzione sei più salvo becca 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 inutile questo stress non possiamo più challengerlo io sono sotto eh andate via raga venite qua in safe andiamo 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 io sto provando a coprirvi ma si 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 ho capito ma adesso da un po' che sono qua che ho la gente attaccata a me io sto sperando aiutare voi ma se muoio poi adesso guai no perché c'è gente qui sotto quindi eh dentro non lo so hanno arrestato qua proprio sotto di me poi anche adesso siamo in quella situazione che non abbiamo l'altezza potenziamento da campo marcato un po' qua davanti straccato eh secondo me sono andato a casa lì davanti al lancia una stordente tu di chi è? mia come quelli sotto dovrebbero ma chi è io? vedo 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 in sta casa qua raga ho localizzato un contracco taglia si è sceso uno uno dietro uno dietro uno dietro c'è uno cassa di scorte in campo è arrivato non è arriviandato nella casa una terra è passato cassa ho finito assalto io devo andare a ruttare per forza gli sono cocco? da me ah sai che ce li ha salti sono lì davanti a noi dobbiamo prendere il pallone e salire qua di qua di qua secondo me dobbiamo prendere altezza io ho un pallone, io anche dai andiamo per il tiro ah potremmo prendere un po' di walk di qualcuno ci sarà altra gente già io vorrei proprio salire ma non so vedete qualcuno sopra dove vanno questi terzetti stanno andando bene in realtà crea la tua destra e non avremo uno in volo comunque stanno sparando io vorrei prendere sta parte alta e magari fai ti amo i rimasugli di questi qua chi siete? sto salendo c'è uno qua davanti? te l'ho detto ma stanno andando a luttare tipo da qua eh non so l'ho detto arrivare col paracadutto e te l'ho collato mi spaventano quelli un po' sotto questo qua hanno restato raga raga staglio in vista staglio in vista madonna pingami se ne sa uno c'è bombardo però pure me l'ho confermato l'olena non siamo proprio belli qua lì sotto ovunque bombardamento di precisione nemico giù bombardamento di precisione nemico giù è tutto scendere raga raga hanno restato di nuovo là ah li vedo gaccato una non lo vedo più perfettino a terra qua dietro vediamoci qui vado a confermare anche è open raga è open raga che se no non usciamo no cazzo è morto ancora l'altro caricato qua dietro è scendato in due volte non è andato a terra sto francando c'è un flyer ok ok torna indietro veloce e siamo nella posizione migliore che possiamo avere dobbiamo solo stare attenti se non ci sono già ancora gente sopra qua verso di qua muni vediamoci qui ho addirittura gente pazza che è salita su noi siamo posizionati perfetti io provo a tirarne giù qualcuno guardatemi i culi io provo a tirare giù qualcuno ha preso una corda ha confermato una terra ancora uno qua però mi sa perché mi guardi a sinistra che non mi sa che non a sinistra le montagne io guardo quelli frontali questo è open questo è open è morto sono due team cinque persone ci sono due team c'è uno faccio uno faccio uno faccio rilascia sotto a terra ho fingato ho fingato guardate rilasci sniper c'è uno che l'ho visto dietro si devi guardare a destra te Moon io sto guardando si è troppo splitati per lo stea se mori non riesco più a e andiamo mi tengo qua si 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 sta salendo sta salendo lo anticipo l'ho visto ma non ho possibilità di aiuto non è niente vado ad aiutarlo, lo stai pushando troppo è più di una è ancora chiara uno chiara l'altro rimane l'ultimo proviamoci qua a Munche secondo me potrebbe no, lì è qui sotto sarà da sto cos'enorme qua ho visto, è sopra movimento, ignorato passi dal camminamento nuova zona sicura non facciamo cazzate che lui deve salire è la Minoo dove stai Minoo scelta preso, evitato un po' si eccola lì traccato one shot questo qua qui si 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 mi muove io me ne sto qua tanto c'ho la maschera non rischiamola, voglio vincerla eh champagne warzone champagne ragazzi warzone champagne no sono caduto no sono caduto rimani visibile eh è stupido porca di non ha più block non ha più block bella bella abbiamo giocata purtroppo non abbiamo beccato tanti team però di nuovo l'abbiamo giocata per la win non ci sta finchè vinci e e e lo giochi per la win ci sta tanto poi sul finale ci divertiamo se e le cose lì sempre un po' di team di team play tipo io se c'ho lo sniper è meglio sparo front e poi dovevamo splittarci fratti in mundo ti guardava a destra e te stai dovevi guardarti a sinistra se ti collavo quella cosa lì magari con lì ci penevano il timing sarebbero magari saliti si che devono ancora magari ci devono mettere ancora un po' di più gg gg da dire gg 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 vino grandi io direi che vado a mangiare vado a pranzare bella ragazzuoli buon appetito a tutti ciao 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 buon appetito bella ragazzi dai è stata una mattinata abbastanza bella abbiamo iniziato un po' così così e poi pian piano abbiamo alzato il ritmo ma poi in realtà neanche così così perché i primi game se sto guardando sono andati terzi un game secondi un altro game terzi che cacchio se vanno a vedere l'ultimo game che comunque ho fatto il primo 10 kg non mi sembra di essere dato nel gulag quindi in questo momento qua c'ho 567k di con 971 kg game buono ragazzi ha fatto le nostre due win sul finale un po di sfighe in alcuni in alcuni momenti nice 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 ragazzuoli vi saluto vi ringrazio per aver seguito la live e niente ci vediamo presto adesso sto weekend non credo di esserci forse domenica non lo so comunque ci sentiamo ragazzi belle partite riportate stare almeno nel sì l'importante è comunque giocarsi le sei finali che a sto gioco qua comunque sono le cose che ti danno un po più di adrenalina quindi comunque adesso vado a vedere sulle partite finali abbiamo fatto una due tre quattro cinque le abbiamo vinte due si può fare sicuramente di più il primo secondo me c'è stato quello sbaglio la che ha splittato il buon gioddo ma ci sta aveva era incazzato con quello la voleva ucciderlo per forza è splittato e poi è morto ma era tipo sei game giocati di sei finale tra win ragazzuoli grazie di tutto e ci vediamo prossimamente ragazzi dai bacio a tutto a tutti grazie di aver seguito la live bella alex bella daniele che c'è ancora bella mino dovremmo essere noi dovremmo essere noi ragazzuoli bella buon pranzo anche a voi ragazzi alla prossima